Allora abbiamo il numero legale, quindi possiamo cominciare i lavori. Come ricorderete, nell'ultimo Consiglio Comunale di febbraio vi avevo comunicato che il Presidente dei Revisori dei Conti mi aveva fatto pervenire due verbali, il numero 81 e il numero 87, e vi avevo comunicato che potevate prendere visione presso la segreteria e chiedere eventualmente una copia. Per quanto riguarda il verbale numero 87, il Presidente del Collegio dei Revisori mi chiedeva di voler adottare i dovuti provvedimenti al fine di regolarizzare la posizione che riguardava l'esposto presentato dal Consigliere Furgioere. Io mi sono rivolto a chi garantisce legalmente tutti gli atti del Comune, al Segretario Dottor Morra, che molto gentilmente mi ha fatto pervenire il documento che adesso vi leggo. Pagherei un po' d'attenzione. Gentile Presidente Nicola Mercurio. Il riferimento alla sua nota in data 14 febbraio 2013, protocollo numero 0005671. Sentiti i competenti uffici comunali, le relaziono quanto segue. A seguito delle linee di indirizzo stabilite dalla Giunta Comunale, con deliberazione numero 150, del 15 settembre 2010, è stato approvato nell'anno 2011 l'elenco di avvocati per l'affidamento di incariche di assistenza giuridico-legale e di patrocinio e difesa dell'ente, giusta determinazione numero 60.205.2011. L'avviso pubblico all'articolo 5 così recita Trattamento economico Il legale incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico. Con la sottoscrizione del disciplinare, il legale incaricato si impegna di applicare e a percepire i minimi tariffari per diritti onorari e spese computata alla data del disciplinare con una riduzione del 10%. All'epoca della pubblicazione dell'avviso pubblico erano ancora in vigore i tariffari a cui gli avvocati dovevano attenersi per definire i compensi loro spettanti nello svolgimento di incariche professionali. L'aggiunta comunale, con deliberazione numero 116 del 18 luglio 2012, ha ritenuto opportuno costituirsi nel giudizio che l'avvocato Luigi Sodano ha presentato al Tar Piemonte notificato al Comune di Chiere in data 18 giugno 2012 per l'annullamento dell'atto di revoca dell'esponente di componente della Giunta Comunale datato 24 aprile 2012 a firma del Sindaco del Comune di Chiere. Con la determinazione del Direttore Generale numero 342 del 18 luglio 2012, si dava atto che, ai fini della scelta del legale da incaricare per l'assistenza, nel ricorso in oggetto era stato utilizzato l'elenco avvocati applicando il criterio della rotazione e procedendo in ordine alfabetico. In particolare, poiché nell'anno 2011 si era proceduto ad affidare incariche a professionisti i cui cognomi iniziavano con la lettera A, B e C, si procedeva nel 2012 ad attingere dai nominativi il cui cognome iniziava con la lettera Z in alternanza con la lettera D. Veniva affidato all'avvocato Francesco Valpiaz l'incarico di legale patrocinante del Comune nel suddetto ricorso. Veniva impegnata la somma di 2.831,40 euro come da preventivo di spesa protocollo 21.951 del 28 giugno 2012 e veniva altresì approvata la bozza di contratto. Con ordinanza numero 431 del 26 luglio 2012, il Tar Piemonte prendeva atto della rinuncia all'istanza caudaleare proposto dall'avvocato Sodano e gli assegnava il termine di 60 giorni per la proposizione della querela di falso da esprimere contro il Comune. Nel frattempo, con legge 24 marzo 2012, numero 27, venivano brogati i tariffari professionali degli avvocati, così come di altre figure professionali, e si demandava a un decreto ministeriale successivo successivo l'adduzione di un regolamento ad uso degli organi giurisdizionali per la liquidazione dei compensi degli avvocati al momento dell'emanazione delle sentenze. Quindi il Ministero della Giustizia, con decreto numero 140 del 20 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 agosto 2012, ha emanato proprio il regolamento di cui sopra, che è all'articolo 5 specifica. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile, si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa. E all'articolo 11 ha inserito alla determinazione del compenso rinvia la tabella A che prevede un unico riferimento al valore medio delle varie fasi di giudizio, modificabile a discrezione del giudice a secondo del valore e della natura e complessità della controversia del numero e della complessità delle questioni trattate. Tabella Tribunale ordinario e organo di giustizia tributario di primo grado. Scaglione di riferimento valore della causa tra Euro 25.001 ad Euro 50.000. Fase di studio valore medio di liquidazione Euro 1.200, aumento fino a più 60%, diminuzione fino a meno 50%. Fase introduttiva valore medio di liquidazione Euro 600, aumento fino a più 60%, diminuzione fino a meno 50%. Fase di istruttoria valore medio di liquidazione Euro 1.500, aumento fino a più 60%, diminuzione fino a meno 70%. Fase decisoria valore medio di liquidazione Euro 1.500, aumento fino a più 60%, diminuzione fino a meno 50%. A questo punto, con atto di citazione notificato in data 14 settembre 2012, l'Avvocato Sodano chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Torino del Comune di Chieri per dichiarare la falsità e non veridicità del verbale di deliberazione di Consiglio Comunale di Chieri numero 40 del 27 aprile 2012. L'Aggiunta Comunale, con deliberazione numero 185 del 24 ottobre 2012, quindi ha ritenuto opportuno costituirsi nel giudizio, rilevando di non avvalersi al fine della scelta del legale da incaricare per l'assistenza in oggetto dell'elenco avvocati, perché il giudizio in questione evidenziava conseguenzialità e complementarietà con l'incarico già affidato tramite determinazione del Direttore Generale numero 342 del 18 luglio 2012. Con determinazione numero 552 del 15 novembre 2012, il Direttore Generale dava atto che al fine della scelta del legale da incaricare per l'assistenza in oggetto non ci si avvale dell'elenco avvocati, poiché il presente giudizio evidenzia conseguenzialità e complementarietà con l'incarico già affidato tramite determinazione del Direttore Generale numero 342 del 18 luglio 2012. Affidava all'Avvocato Francesco Dal Piazza l'incarico di legale patrocinante del Comune nel suddetto giudizio davanti al Tribunale di Torino. impegnava la somma di Euro 6.292, oneri inclusi, così come da preventivo nostro protocollo 32.523.2012. Veniva altresì approvata la bozza di contratto. Il contratto definitivo veniva sottoscritto in data 3 dicembre 2012. Lo stesso mantiene fisse le condizioni essenziali tipiche previste dalla bozza di contratto approvata, ma è stato strutturato in base al tipo di incarico affidato, e poiché solo nel mese di agosto è stato pubblicato il Decreto Ministeriale numero 140 2012, di cui sopra e solo nei mesi di ottobre e novembre 2012 sono state pubblicate le prime osservazioni dottrinale e giurisprudenziali relative all'interrogazione e all'interpretazione della nuova normativa sui parametri da applicare nella liquidazione delle spese legali. Il contratto definitivo ha recepito la novità normativa introducendo l'articolo 2, che recita illegale si impegna ad applicare per l'incarico ricevuto e di cui al presente contratto i minimi di parcella previsti dall'ultimo decreto ministeriale relativo alle tariffe professionali, in maniera di materia civile, penale e stragiudiziale, ridotte del 10%. Un nuovo capoverso Rispetto alle condizioni richieste al punto 5 dell'avviso pubblico di selezione dell'elenco avvocato approvato con determina 770 del 7 dicembre 2011 si precisa che il preventivo di spesa è stato elaborato tenendo conto delle modifiche legislative intervenute con Decreto Ministeriale 20 luglio 2012 numero 140 entrato in vigore il 23 agosto 2012 A seguito della richiesta di chiarimenti comunicata con verbale numero 71 del Collegio dei Revisori l'Avvocato dal Piazze ha inviato noto la protocollo numero 2943 del 23 gennaio 2013 con il dettaglio delle singole voci in cui si articola il compenso concordato con preventivo di cui al nostro protocollo numero 2032 523 del 2012 sottolineando nel contempo che l'avvertenza in questione per le peculiarità della controversia e della procedura riveste particolare complessità e importanza e nella sostanza applicando il valore medio di riferimento previsto dalla tabella A del decreto ministeriale numero 150 del 20 luglio 2012 preciso che qualora quanto sopra evidenziato non sia ritenuto esaustivo rientra nella piena facoltà dei consiglieri comunali richiedere l'esame di quanto segnalato da parte della Commissione di Controllo e Garanzia ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consigliari ritengo invece non pertinente l'invito rivolto rivoltole dal Collegio dei Revisori a voler adottare i dovuti provvedimenti al fine di regolarizzare la posizione e questo in quanto non è attribuita né a lei né ad alcun altro componente del Consiglio Comunale l'adozione di atti gestionali rimessi dall'articolo 107 del decreto legislativo 267 del 2000 all'esclusiva valutazione del dirigente competente in merito Distinti saluti Dottor Morro Se qualcuno volesse una copia di questa comunicazione si rivolge alla segreteria e viene dato prima di dare il via al lavoro del Consiglio c'è una comunicazione della collega Biglia Prego Sì, grazie Sì Volevamo comunicare a tutto il Consiglio Comunale che il lavoro avviato a fine primavera scorsa per la consulta delle associazioni è giunto sostanzialmente a una conclusione perché a dicembre si è riunita la commissione consigliare competente che ha visionato il testo di modifica del regolamento degli organi della partecipazione di Chieri e l'ha appunto modificato Adesso vorremmo per assicurare che il voto espresso da tutto il Consiglio Comunale favorevole per l'istituzione della consulta comunale non andasse a vuoto quindi perché possono essere anche rispettati i tempi tra un anno sostanzialmente finisce la legislatura e quindi insomma per garantire che invece questo lavoro possa giungere a termine vorremmo che fosse mezzo agli atti che noi chiediamo formalmente che il testo che è stato modificato in commissione consigliare venga inviato per commenti a tutte le associazioni che a fronte di eventuali risposte venga riportato in commissione consigliare e infine in approvazione in consiglio comunale entro fine maggio in modo che possano poi essere avviati i successivi passi necessari per la costituzione formale della consulta riteniamo questa comunicazione urgente perché abbiamo visto che nel programma 1 comunicazione e partecipazione non è citata la consulta delle associazioni quindi non risulta essere un obiettivo dell'assessorato mentre il consiglio comunale si è espresso diversamente quindi chiediamo che vengano fatti i passi necessari grazie ok prima di passare alla mozione come sapete è mancato il capo della polizia il dottor Manganelli io vi inviterei a fare un minuto di silenzio se riteniamo qualche collega mi suggeriva questo vi darei un minuto di silenzio di silenzio di silenzio di silenzio di silenzio di silenzio dunque mi è pervenuta una mozione urgente a firma della collega Olia e Dario Fasano e penso non ci sia bisogno di leggerla perché tutti i colleghi hanno già una copia e quindi mi inviterei il consiglio a esprimersi se ritenerla urgente o meno quindi prenotatevi per la votazione prenotarsi un attimino prenotarsi l'urgenza della mozione no dobbiamo dire solo se è urgente o meno è aperta aperta la votazione votare 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 Maspoli se vuoi votare prenotati se vuoi votare allora votare votazione chiusa votare 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 Il sito della votazione. Il sito della votazione presenta la votazione 25, non ha votato 1, favorevoli 9, Olia, Civera, Biglia, Maspoli, Benedicenti, Cucci, Marinari, Fasano, Furgioele, Contrari, 14, Vasino, Emma Fasano, Rappasso, Tamagnone, Stellato, Bulgarello, Mercurio, Passarello, Rubatto, Caivano, Sidere, Bozzalla, Grosso, Castella, Lancione. Astenuto 1, Ronco. Non ha votato 4, la mozione non è stata ritenuta urgente, quindi da trattare subito. Passiamo alle interrogazioni. Interrogazione A, presentata da Chieri Futura, gruppo misto, situazione delle persone in assistenza a Chieri da ritenersi preoccupante. Prego l'interrogante. Furgioele, se vuoi parlare, se no, passa la risposta. Ho sentito gruppo misto, però non ho sentito quale gruppo, allora mi stavo zitto. Chieri Futura, gruppo misto, ho detto tutti e due. Penso ci sei solo tu. Allora, con questa interrogazione chiedevo al sindaco il riferimento purtroppo all'assistenza che viene richiesta costantemente, anzi, giornalmente, da persone, dai cittadini chieresi che sono, ripeto, costretti a chiedere aiuto per poter sbarcare il lunario, chiedevo al sindaco quanti erano le persone fino a febbraio 2013 che appunto chiedevano l'assistenza. Chiedevo inoltre se in base al punto dell'anno scorso erano aumentate queste richieste e se riteneva particolarmente preoccupante questa situazione. E per ultimo chiedevo anche a quanto ammonta il totale erogato dal nostro comune nel 2012 e nel 2013 a beneficio delle persone in assistenza. Grazie. Il pondo è il sindaco. Buonasera. I dati me li ha affermito il consorzio perché l'assistenza non fa carico al comune ma al consorzio socioassistenziale come per Chieri e per il territorio e ho dei dati che posso fornire. Sono 409 cittadini in assistenza economica da gennaio a marzo 2013, appartenenti al numero 173 nuclei familiari. Sono aumentate dal 2008, dall'inizio della crisi. Quindi c'è stato un aumento progressivo proprio legato a questa crisi terribile. E la situazione è molto preoccupante. Infatti le assemblee dei sindaci in qualche modo si hanno sempre fatto carico, anche perché c'erano dei tagli a livello regionale, come tutti sappiamo, e che ultimamente sono però meno accentuati. Diciamo che in qualche modo hanno preso visione di questa situazione abbastanza preoccupante e per quello che possono cercano di mettere. Ma i comuni hanno aumentato le quote perché è proprio per far fronte a questa situazione, altrimenti si rischiava che saltasse tutto. Sono in costante aumento i nuclei familiari che arrivano per la prima volta a questo servizio per la perdita del lavoro, passando da una situazione di normalità ad una grave crisi di disagio economico, che per ora non trova risposte sufficienti o sembra di via d'uscita, a causa anche dello stato lavorativo che la maggior parte ha precarietà, anzi assenza di lavoro. Questo ricade soprattutto sui minori e sul mantenimento della casa. Si tratta sia di nuclei stranieri che di italiani. Il Consorzio, per quanto riguarda Chieri, ha erogato nell'anno, come chiedevi con la quarta, nell'anno 2012, contributi pari a 323.308,99 euro. Si specifica che nel 2012 i valori in cifre dei contributi previsti dal regolamento delle misure a contrasto della povertà sono stati diminuiti, alcuni dimezzati da febbraio ad agosti compresi. Dal 2013, nel periodo gennaio-marzo, sono stati erogati i contributi per un importo di 104.177,36. e quindi da questo si può vedere che siamo in un trend in crescita. Penso che la risposta sia più che no, è saustiva. Buongiorno. Sì, la risposta è abbastanza chiara. Diciamo come risposta soddisfacente, certo che una preoccupazione c'è, esiste, anche il sindaco ha sottolineato, e dovremmo, almeno per quel che concerne il nostro dovere, trovare qualche soluzione per poter aiutare in qualche modo queste famiglie. Io mi auguro che si possa trovare una soluzione, anche se è una soluzione tampone, però che si possa aiutare in qualche maniera, possono aiutare queste famiglie. Grazie. Interrogazione successiva, presentata dal consigliere Forgiuele di Chieri Futura Gruppo Misto, circa risparmio energetico. Da oggi è più semplice ridurre la spesa per l'illuminazione pubblica, anche negli immobili di proprietà comunale. Prego, buongiorno. Penso che c'è poco da illustrare qua, se non ascoltare prima quello che sicuramente è chiaramente dire l'assessore. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Grazie consigliere che mi dà l'opportunità di illustrare un provvedimento fatto dalla giunta regionale. Proprio come dice il consigliere, non c'è nulla da illustrare, in quanto è già tutto deliberato, è già attuato dalla città di Chieri. Ma nello specifico dell'interrogazione si precisa che la giunta regionale, come ricorda anche il consigliere, con deliberazione numero 3, barra 5.449 del 4 marzo 2013, quindi l'altro giorno, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione numero 10 del 7 marzo 2013, ha approvato lo schema di capitolato relativo. In primis a erogazione del servizio Energia Plus, con realizzazione di interventi di efficienza energetica, generazione da fonti rinnovabili e adeguamento normativo degli impianti, con finanziamento tramite terzi nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, utilizzabile da parte delle aziende sanitarie piemontesi, quale contributo e riferimento per l'appalto del servizio Energia del patrimonio immobiliare di pertinenza. Secondo punto, in erogazione del servizio Energia Plus, realizzazione di interventi di efficienza energetica, generazione da fonti rinnovabili e adeguamento normativo degli impianti, come il punto precedente, nell'ambito degli edifici e o dei patrimoni immobiliari pubblici, con finanziamento tramite terzi, utilizzabile da parte dell'amministrazione degli enti locali piemontesi, quale contributo e riferimento per l'appalto del servizio Energia nel patrimonio immobiliare di pertinenza. Il punto tre, nella gestione del servizio di illuminazione pubblica, realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti comunali, con finanziamento tramite terzi, utilizzabile da parte dell'amministrazione comunale, per l'appalto del correlato servizio. Tali schemi di capitolato approvati, ricordo, pochi giorni fa, sono stati approvati per supportare i comuni nella stipula di contratti innovativi e quindi l'amministrazione, a seguito dell'esame tecnico e della documentazione pubblicata nei giorni scorsi, valuterà l'opportunità di utilizzare tali elementi relativamente al secondo e terzo capitolato, che sarebbero quelli che riguardano il patrimonio pubblico. L'interrogazione successiva presentata dal PD modifica la circolazione nel tratto di strada Tettifasano tra l'incrocio con via Pavese e via Carducci e la rotonda della circonvalazione sud via dell'Industria. La illustrate? Volete che si risponda? Ah, è Marinare, prego. Sì, grazie, signor Presidente. Buonasera a tutti. Sì, questa interrogazione è per cercare di capire a fronte di un'opera di modifica della viabilità che è stata portata avanti nei mesi scorsi, diciamo, da ottobre del 2012 fino a questi giorni in cui è comparsa la cartellonistica, fioriere di chiusura al traffico veicolare e così via, per capire quale sono state nel suo itinere per raggiungimento di questa delibera le modalità, i confronti e gli eventuali illustrazioni, gli accordi presi con la popolazione residente sia dalla parte sui due lati della strada, sia dalla borgata Tettifasano che dalla borgata Tettipadova perché ci è stato reso noto che a fronte di questa chiusura al traffico veicolare c'è stato un certo malcontento che ha portato a una raccolta di firme, ad una petizione che è stata portata alla conoscenza del sindaco e dell'assessore competente. Sappiamo che ci sono stati degli incontri preliminari a cui questa amministrazione non si è certamente sottratta, però di fatto quest'opera, attuata e portata a fine con degli oneri provenienti dall'urbanizzazione della zona di Fontaneto, ha creato, fa virgolette, un certo scompenso e un certo malcontento. Per venire incontro a questa non piena condivisione di quest'opera ci interessa capire come gruppo del PD se sono previste nell'immediato futuro, nel prossimo futuro, delle opere diarie alternative, apertura di strade sulle quali insistono dei lavori sempre in zona da alcuni mesi e soprattutto, siccome la precedente amministrazione aveva in qualche modo indicato un possibile collegamento tra la circunvolazione sud e via dell'industria, la rotonda lì dove adesso è stata chiusa il traffico veicolare, con una zona ad alta capacità di parcheggi, quale piazzale Quarini e l'area Monti, se sono previste in seguito, nei prossimi tempi, in un futuro di programmazione, di viabilità, l'apertura di una viabilità alternativa a questa della cosiddetta vecchia strada di Tetti e Fasani. Quindi ci gradirebbe sapere questa indicazione e soprattutto come si svolgerà il tutto se ci sarà ancora dei passi futuri. Grazie. Rispondo all'assessore Motto. Allora, l'iter è stato lungo perché non è che siamo partiti da ottobre del 2012. Nella realtà l'operazione nasce almeno due anni prima con il coinvolgimento dei cittadini di Borgo Padova e non solo di Borgo Padova, anche di Borgata Tetti e Fasano. Due incontri con i cittadini di Borgo Padova e un incontro con i cittadini di Borgo Padova. Se dobbiamo dirla subito, il primo incontro fatto con gli abitanti di Borgo Padova vedeva gli stessi abitanti di Borgo Padova contrari, in prima battuta, a questo intervento. Dopodiché, quando si è spiegato quelle che erano le logiche che stavano dietro a questo intervento, perché noi dobbiamo tenere conto del fatto che una volta esisteva strada Tetti-Fasano, che era una strada, diciamo così, chiamiamola di campagna, che collegava Borgo Padova con Borgata Tetti-Fasano. Quando è stata realizzata la circonvalazione, quindi come tale, è stata realizzata quella della rotonda in prossimità di Via dell'Industria, chiaramente strada Tetti-Fasano è stata tagliata, è stata completamente stravolta, nel senso che esisteva ancora un vecchio tratto, quello originale, di strada Tetti-Fasano, che era quella che da Borgo Padova arrivava a questa rotonda, quella di Via dell'Industria, e poi da Via dell'Industria a Borgata Tetti-Fasano praticamente non esisteva più o esisteva solamente in parte il vecchio tracciato, perché una parte di questo veniva inclobata in quella che è l'attuale circonvalazione di Chieri. Risultato qual è? È quello che nella realtà noi abbiamo una Borgata, Borgata Tetti-Fasano, che nella realtà risulta tagliata dalla città di Chieri, da una circonvalazione e una delle rimostranze fatte dagli abitanti di Borgata Tetti-Fasano era quella che nella realtà se volevano a piedi o in bicicletta le famiglie, le mamme, i bambini venire a Chieri, nella realtà nel momento stesso che mettevano il naso fuori nella rotonda di Borgata Tetti-Fasano si trovavano su una circonvalazione. E uno di quegli impegni che stiamo ancora portando avanti è quello di rendere il vecchio tracciato di strada Tetti-Fasano chiaramente integrato perché in alcuni tratti questa è stata inglobata nella circonvalazione fa diventare un percorso ciclopedonale che collega Borgata Tetti-Fasano con Borgo Padova e con Chieri. Quindi nell'ambito di questo inquadramento il tratto ciclopedonale da Borgo Padova alla rotonda di Via dell'Industria è il primo tratto che realizziamo noi come città di Chieri mentre invece l'impegno che stiamo ancora discutendo e trattando con la provincia è quello di collegare di realizzare il secondo tratto in modo tale che avremo un collegamento unico. Questo è uno dei primi motivi ma non è l'unico. Il secondo motivo è legato al fatto che proprio la circonvalazione faceva sì che si veniva a creare un traffico di attraversamento dalla città di Chieri verso la circonvalazione attraverso una zona risidenziale che è una zona 30 che è quella di Borgo Padova. E questo da un punto di vista della sicurezza della Borgata stessa è una cosa inaccettabile. Primo perché la sezione della vecchia strada Tetti-Fasano quindi quella che noi adesso abbiamo reso ciclopedonale non aveva una sezione adeguata per poter collegare la città ad una circonvalazione e soprattutto non era c'è una viabilità alternativa che permette di collegare la Borgata di Tetti-Fasano a Chieri attraverso via Conte Rosso attraverso la circonvalazione andando poi dopo su via Quintino Sella o andando in Falcettini. Posso capire che comunque è tanto vero che la petizione le firme raccolte buona parte dei cittadini che hanno firmato sono dei cittadini di Borgata Tetti-Fasano tant'è vero che a essere rigorosi quando sono andato a discutere con gli abitanti della Borgata questi non erano sicuramente favorevoli a questo intervento. Però le logiche che stanno dietro alla scelta sono forti e sono più che giustificativi del fatto di questa scelta forte che è legata alla sicurezza e a ricreare un percorso ciclopedonale sicuramente utile per la collettività. Per quanto riguarda invece le altre sulla viabilità alternativa due parole perché mi sta scadendo il tempo andremo ad aprire via Pavese che sarà una via a senso unico che permette di collegare strada Tetti-Fasano con via Conte Rossi e via Broferio che sarà in parte senso unico a salire da strada Conte Rossi verso strada Tetti-Fasano e l'ultimo tratto invece sarà doppio senso di circolazione. Mi fermo perché mi hanno tagliato il tempo. Prego Interrovanti Marinari Prego Sì grazie dell'illustrazione anche se ovviamente eravamo in gran parte a conoscenza ma ci teniamo a sottolineare che assieme a questa diciamo quest'opera che in qualche modo ha dei risvolti positivi e per la borgata e per la città di Chieri perché nessuno nasconde questo dall'altra c'è stato dal punto di vista della viabilità e del traffico un aggravamento su alcune vie e della borgata e anche delle vie limitrofe che portano a piazza Le Quarini che portano verso piazza Europa e soprattutto su via Conte Rossi di Montelera pertanto il discorso è va bene intervenire sulle viabilità locale e cercare in ogni modo di mettere in sicurezza far rispettare le zone 30 l'altra è cercare di avere una viabilità dei flussi che dalla zona industriale dalla circovallazione dalla rotonda che dicevamo prima portano aggirando Borgo Padova verso dei punti come dire molto frequentati di Chieri quale piazza Le Quarini e piazza Europa cioè il fatto che bisogna salire tutta via Primo Maggio andare in Corsolia fare il giro verso Fontaneto oppure attraversare via Montu molto stretta scendere verso la zona del Gialdo già di per sé molto frequentata come dire è un aggravamento sui flussi di traffico e quindi di spostare una sicurezza messa in quella borgata spostare dei livelli di maggiore insicurezza su altri era di capire se nel futuro di questa amministrazione c'è una prospettiva di viabilità diversa non c'è stato il tempo di rispondere ne parleremo in commissione grazie interrogazione successiva presentata dal partito democratico fraccheggio via Mendola la illustrate volete la risposta la illustro io velocemente perché mi hanno telefonato ieri che a fronte di questa interrogazione finalmente gli interventi di sistemazione dei cordoli con relative macerie che erano in bella vista da alcuni mesi l'intervento è stato fatto è stato rimesso tutto a posto rimane un interrogativo al quale l'assessore aveva già risposto precedentemente l'assessore Galligaro sulle cadenze e sul rispetto delle pulizie di questo parcheggio sia del piano superiore che del piano inferiore visto che è molto frequentato quotidianamente soprattutto perché c'è la come sappiamo la farmacia comunale e così via dal punto di vista dell'intervento dispiace che ci siano delle lungaggini e che si debba arrivare a un'interrogazione per poter effettuare gli interventi solo questo se vuole rispondere bene altrimenti prendiamo atto risponde l'assessore Galligaro io sono spiacente ma darò una risposta lapidaria in quanto il problema è stato risolto ma il problema era da attribuire anche un po' alla responsabilità perché essendo rientrando nella fattispecie di incidenti stradali danneggiamento da automobili magari si cercava di appurare una qualche responsabilità quindi che non è stata appurata e abbiamo provveduto a intervenire per la rimozione delle macerie mentre ribadisco quanto è scritto su un capitolato perché noi non possiamo far altro se non sollecitare il consorzio all'osservanza puntuale del capitolato che gli interventi di pulizia e spaziamento del parcheggio a livello stradale vengono svolti mediante spaziamento meccanizzato con frequenza quindicinale quindi questo è quanto è previsto gli interventi di pulizia e spaziamento del parcheggio interrato non essendo possibile l'ingresso della spazzatrice vengono svolti manualmente sempre con frequenza quindicinale quindi questo terzi un non datur se non metterci lì puntualmente a controllare l'operato del consorzio ma penso che non rientri magari neanche nelle competenze dell'amministrazione ma nelle competenze stesse del consorzio al controllo delle imprese ok grazie era solo perché l'insistenza forse anche dovuta alla stagione invernale con la sabbia il sale così via ha portato un accumulo di materiale da ripulire per cui un livello organizzativo forse un po' più preciso e cadenzato darebbe una condizione migliore solo quella ok grazie interrogazione è presentata dal partito democratico su distribuzione sacchi gialli per raccolta differenziata della plastica e lattini prego Marinari sì stasera prendo la cadenza di Furgiuele del collega Furgiuele ma vediamo di andare veloce no anche questo è una interrogazione con segnalazione proveniente da numerosi cittadini soprattutto anziani che si erano abituati per fortuna ad un attività della raccolta differenziata in modo oramai consolidato e che dal primo gennaio di quest'anno si sono visti per quanto sia stato mandato solo Puscoletto anche se in modo un po' critico la segnalazione della distribuzione dei sacchi gialli in un modo diverso si sono trovati a dover affrontare delle code dei tempi d'attesa qui nell'androne dello sportello unico per poter ritirare il classico rotolino dei sacchi gialli questo ha creato disagio alcuni utenti se vedono che entro 5-10 minuti non ha ritirato il rotolo se ne vanno e questo può causare come dire delle condizioni non più così agevoli dovuti alla raccolta differenziata nel senso che poi la gente l'ho già vista in giro anziché mettere gli imballi la raccolta di imballi della plastica nel classico sacco giallo lo mette nel sacco nero che poi non viene ritirato perché il consorzio non è autorizzato a ritirare i sacchi neri nei quali non si vede all'interno quindi era da chiedere uno è stata presa questa decisione ovviamente per motivi gestionali del personale questo è chiaro l'altro è che però i tempi d'attesa ricadono sui cittadini attivi che fanno la raccolta differenziata tre se non è il caso di semplificare questa procedura magari con distribuzione automatica o in fasce orarie ben definite in cui uno va lì col tesserino ritira se ne va senza stare un quarto d'ora come è successo o venti minuti in attesa del passaggio all'ecosportello grazie risponde l'assessore Gallegaro grazie consigliere ma i problemi sono di due tipi in questo problema uno è un tipo di carattere economico poiché i sacchetti hanno un costo e quindi questo costo ricadono su tutti i cittadini ed è oltretutto un elemento normato contrattualmente e non si può derogare il secondo tema è quello proprio dell'agevolazione dei cittadini stessi e poiché noi siamo vincolati dalla rigidità contrattuale con cui abbiamo sottoscritto tutti i passaggi per la gestione del sistema integrato dei rifiuti abbiamo dovuto in qualche modo non noi ma il consorzio attivare una modifica gestionale di questo passaggio in passato la distribuzione dei sacchi gialli per la raccolta differenziata della plastica veniva effettuata dall'addetta all'infodesk dello sportello unico dietro la compilazione manuale da parte dell'utente di un registro in cui indicare i propri dati anagrafici e con la posizione della firma nel mese di novembre 2011 il consorzio per i servizi del Chierese ha attivato questa nuova procedura che le dicevo per la distribuzione dei sacchi gialli mediante lettura del codice a barre della tessera sanitaria dell'intestataria in modo in modo da avere subito la meccanizzazione e l'elemento contabilizzante dell'uscita dei sacchi con appunto la finalità di controllo che precedentemente non erano non erano perseguibili mediante una semplice procedura cartacea quindi con questo processo abbiamo è stato attuato il controllo della regolare iscrizione dell'utente nella banca dati TIA quindi avevamo la certezza del pagamento e del servizio il controllo dei quantitativi di sacchetti distribuiti al fine di pervenire ed evitare abusi o utilizzi impropri molta gente utilizzava questi sacchetti per altri usi tale procedura veniva assegnata sempre alla detta dell'infodesk che tuttavia doveva lavorare su una doppia postazione in quanto l'attrezzatura poteva essere installata solamente su una macchina con il sistema operativo Windows XP mentre le attrezzature dello sportello unico hanno tutte Windows 8 ma utilizzando un solo schermo in quanto non c'è lo spazio fisico all'infodex per due postazioni complete con le conseguenti difficoltà operative di dover entrare uscire continuamente dagli applicativi gestionali la distribuzione media per guardare i numeri è di 70 80 elementi di richieste di sacchi gialli trascorsi alcuni mesi del 2012 è stato segnalato questo problema al consorzio e sono state appunto segnalate le oggettive difficoltà del nostro infodesk nell'esplitare l'attività con le nuove modalità operative sottolineando che se per loro tali modalità erano imprescindibili il servizio non poteva essere svolto presso l'ecosportello quindi bisognava cercare un'altra soluzione per meglio organizzare il servizio il consorzio ci chiedeva di continuare la distribuzione dei sacchi gialli presso l'infodesk fino alla fine del 2012 così da poter informare adeguatamente gli utenti e di predisporre un ulteriore pulsante del codometro quello che lascia in modo da gestire separatamente le due code con velocità ovviamente differenti l'installazione che abbiamo provveduto ad effettuare ma che al momento non è stata ancora utilizzata il consorzio aveva anche ipotizzato la soluzione di una postazione self service quello che suggeriva lei dedicata alla registrazione degli utenti non anche all'erogazione non tanto all'erogazione dei sacchi gialli che però non ci risulta che abbia avuto seguito quindi faremo ulteriormente presente se il fenomeno si manifesta al consorzio per trovare una quadra grazie prego Marinari si ringrazio della sovrenta risposta l'invito è proprio che si possa proseguire a cercare una maggior collaborazione e sinergie per trovare le modalità operative più pratiche venendo incontro all'esigenza dei cittadini così come teniamo a sottolineare ancora una volta crea sufficiente disagio e forse anche disaffezione da questo tipo di servizio grazie interrogazione F del partito democratico su situazione parcheggi centrochieri Marinari si sempre io grazie signor presidente andiamo velocemente con l'occasione signor presidente le diciamo che con questa interrogazione uniamo la interrogazione I che ha la stessa valenza perché la nostra interrogazione è la interrogazione I su parcheggi della zona di via principe Medeo perché comunque riguarda lo stesso ambito diciamo così di interesse della città e quindi con questa si unifica anche l'interrogazione I sì questo perché anche questo a fronte di raccolta di manumori abbastanza diffusi nella zona del centrale di Chieri dovuta in parte a commercianti e operatori economici delle vie centrali quali come si diceva prima via principe Medeo e altri che operano nella zona intorno all'ospedale e l'altro è perché il disagio più sentito è quello di popolazione anziana non solo chiarese che si deve recare magari frequentemente per motivi di salute nella zona degli ospedali degli ambulatori siano essi pubblici che privati e che erano abituati a parcheggiare anche pagando le dovute la dovuta quota in piazza taurinense e che adesso piazza taurinense per motivi che tutti conosciamo ha dato l'avvio stanno iniziando i lavori dell'impresa che ha avuto la licenza di poter procedere assieme a questo c'è un episodio che da mesi aspetta risposta del quale ne abbiamo già accennato con la sessione motta dell'altro parcheggio all'incrocio tra via dei giardini e via massa parcheggio sotterraneo parcheggio interato sotto il primo piano anche se a livello strada si può definire sotterraneo che è chiuso per motivi di sicurezza dopo l'incendio di un'auto e sono altri 30 posti auto legato a questo ci si aspetta che il parcheggio sotterraneo della nuova ala dell'ospedale ASL su piazza Pellico di circa 200 posti se non andiamo errati o poco più venga aperto al pubblico e agli operatori sanitari dell'ospedale affinché come dire questo disagio di poter parcheggiare la macchina in zone vicine al centro o limitrofi al centro o per necessità proprio in centro per il tempo necessario in qualche modo vada incontro alle esigenze della cittadinanza in questo momento c'è un disagio abbastanza diffuso e più volte segnalato vorremmo sapere da questa amministrazione cosa si intende fare nell'immediato uno per il parcheggio di via Massa via De Giardini due quando verrà aperto il parcheggio di piazza Pellico sotto la nuova ala ospedale ASL tre qual è la politica dei parcheggi in centro perché non fa parte di vista derogazione ma lo sottolineiamo nel piano delle opere pubbliche triennali il parcheggio di piazza Dante non c'è più c'è la sistemazione di piazza Pellico e va bene però ci sembra che la situazione rimanga alquanto critica grazie risponde il sindaco sia per l'interrogazione F che per l'interrogazione I prego come già detto a seguito dell'incendio verificatosi presso il parcheggio interrato di via Massa e via De Giardini e visto le problematiche emerse nel sopralluogo congiunto con i vigili del fuoco si è deciso di procedere alla riapertura dello stesso solo successivamente all'installazione delle attrezzatori necessarie al controllo e alla videosorveglianza degli accessi i lavori di attrezzaggio del parcheggio di via Massa via De Giardini saranno concomitanti ai lavori di attrezzaggio del parcheggio di piazza Pellico in corso di ultimazione da parte dell'ASL 85 e sono inoltre in corso di definizione con l'ASL 85 le quote di proprietà ASL e comune e le modellità di gestione del futuro parcheggio essendo la zona oggetto dell'intervento dislocata in centro non è stato possibile individuare i nuovi parcheggi alternativi all'area di piazza brigata taurinense in quanto non presente aree libere e a questo proposito volevo dire che la maggior parte dei parcheggi dell'area taurinense era goduta dai dipendenti che facevano i turni all'ospedale erano sulla quantità abbastanza elevata che però possono accedere in questo momento in attesa che si venga a liberare il parcheggio sotto del piazza silvio pellico sotto il distretto sotto il distretto altre cose tipo piazza trendo trieste e altre zone perché loro facendo i turni soprattutto ad esempio la maggior parte tanti sono donne che lavorano in ospedale quindi si è state sempre sensibili a venirgli incontro in modo da permettergli soprattutto per i turni disagiati la mattina presto la sera tardi cercare di organizzarla comunque si stanno studiando soluzioni rivolte sia ai commercianti che ai residenti per agevolare la ricerca del parcheggio temporaneo il parcheggio di via de maria piazza pelica in corso di ultimazione quindi dovrà essere attivo solo dopo il rilascio dei certificati di agibilità e la realizzazione dell'attrezzaggio necessario per la gestione e videosorveglianza dell'edificio a questo proposito abbiamo avuto un incontro con l'asle proprio la settimana scorso che parlavano abbiamo affrontato questo problema perché è chiaro che per poterlo gestire bisogna avere l'accordo bisogna definire le varie abbiamo raggiunto degli accordi di massima che dovrebbero sbrigarsi metto la notizia a fianco a questo dicendo che l'inaugurazione del nuovo distretto addetta del direttore generale con cui ho avuto lo scambio di controllo dovrebbe avvenire entro i primi dieci giorni di aprile Marinari sì grazie signor sindaco della risposta cioè come dire è chiaro che si modificano parti della città parti importanti che questi cambiamenti creano in qualche modo disagio magari momentaneo però quello che in qualche modo vogliamo sottolineare è che innanzitutto ci sembra abbastanza strano o quantomeno mal programmato il discorso della sorveglianza obbligatoria se ci sono delle leggi a cui bisogna sottostare per i parcheggi sotterranei che se ne accorga dopo anni questo o dopo incidenti è abbastanza strano come ci sembra abbastanza strano che un'opera pubblica così importante come quella del nuovo distretto sanitario la nuova ala dell'ospedale dell'asla al momento o pochi mesi prima in cui essa debba entrare in funzione e quindi a regime con tutti i servizi compreso il parcheggio sia l'asle che il comune si accorgano che non ci sono le dotazioni di sicurezza e di videosorveglianza si accorgano che non siano state programmate messe a budget cioè francamente ci sembra che dal punto di vista della programmazione non parlo solo del comune ma comunque in ogni caso si poteva far meglio quantomeno se da una parte si chiude dall'altra si cerca di aprire parallelamente questo non è avvenuto per una serie di disguidi la pubblica amministrazione su questo ovviamente non ha mai brillato e quindi adesso si cercherà di fare le cose che si deve no no non è non è scolocchio perché sappiamo con certezza signor sindaco che sappiamo con certezza infatti che l'aslo 5 non c'erano previste siccome ci sono ben 5 ingressi pedonali e 2 ingressi di parcheggio in entrata in uscita non c'erano le videosorveglianze e gli strumenti di sicurezza ora di questo non ha certamente colpa il comune ovviamente però quando si dice che in centro ci sono esigenze legate a un servizio primario come l'ospedale si pensa che dal punto di vista delle sinergie e dei controlli debbano essere fatti congiuntamente questo è il nostro pensiero grazie interrogazione successiva del partito democratico ricomparsa o scomparsa totale della pista ciclabile di piazza Europa marinare sì sono io grazie signor presidente sì più che l'interrogazione questa vuole essere permettetemi uno stimolo siccome se ne parla se ne parla al nostro interno se ne parla nelle commissioni se ne parla sui giornali però il tempo passa e la soluzione a fronte di una decisione assunta da questa amministrazione di cancellare la pista ciclabile che esisteva e a fronte di modificazioni di flussi di traffico già avvenuti e in parte ancora da completare come l'assessore ci ha spiegato più volte in commissione però il dover perché questo è l'impegno quindi si parla di dover ritracciare un nuovo percorso diverso da quello che c'era precedentemente di una pista ciclabile di un passaggio di bici su una piazza che quantomeno è libera cinque giorni su sette perché è impegnata due giorni alla settimana per il mercato non ci sembra in plesa così difficile forse ci sono questioni che vanno oltre la semplice progettazione e l'esecuzione tecnica e quindi ci piacerebbe sapere se c'è un indirizzo come dire di e una volontà di questa amministrazione di addivenire alla conclusione dicendo e progettando nero su bianco non dico costruendo ma mettendo nero su bianco un progetto un disegno tecnico nel quale viene detto la pista ciclabile che era lì sarà messa qui o se invece sarà definitivamente cancellata grazie mi tocca di nuovo ringraziare il consigliere perché porta a sottolineare anche quelle che sono le intenzioni di questa amministrazione nel favorire il più possibile la mobilità sostenibile quindi in qualche modo dare tutele incentivare l'utilizzo dei mezzi ecologicamente compatibili come possono essere quelli ciclabili e notizia di oggi che è in giunta e passata oggi una delibera che abbiamo ricevuto un contributo di 10.000 euro per le biciclette elettriche da pedalata assistita quindi questo dimostra di come l'amministrazione sia sul sul pezzo ecco quindi per quanto riguarda in questione sulla bicicletta per quanto riguarda l'interrogazione la risposta e che i lavori realizzati finora hanno permesso di verificare la fattibilità di una soluzione definitiva di doppio senso di circolazione su piazza Europa quindi in qualche modo il processo è stato lungo ma è collegato all'approvazione di uno strumento che andrà in approvazione il prossimo consiglio comunale che è il PUT per cui nel processo di approvazione del PUT non abbiamo potuto fare interventi perché nella fase di osservazioni si sarebbe potuto modificare qualcosa quindi andare ad effettuare interventi definitivi o sostanzialmente importanti magari avrebbe voluto dire compromettere poi la soluzione finale del PUT proprio all'interno del PUT al punto 4 punto 4 la pista ciclabile all'interno della piazza con l'allargamento del percorso pedonale esistente rinunciando eventualmente se non sarà possibile riorganizzare gli spazi per la sosta e per i banchi mercatali al collegamento ciclopedonale nelle ore di mercato quindi all'interno proprio del PUT è previsto la definizione di quanto sollevato dall'interrogazione inoltre il piano urbano del traffico prevede la realizzazione del doppio senso di circolazione veicolare fino alla rotatoria di via Roma via Cesare Battisti essenziale per la realizzazione definitiva di tutto l'asse di aria quindi il prossimo consiglio parleremo e sarà oggetto di votazione anche il PUT che contiene la soluzione a quanto espresso nell'interrogazione ok grazie prendiamo atto che le cose si stanno definendo evidenziamo che come dire è un parto abbastanza sofferto perché dopo la cancellazione si pensava che nel giro di pochi mesi sei mesi si potesse avere nuovamente la pista ciclabile e connetterla con quella di campo e riconnetterla con quella di campo archero che va verso la stazione nel movicentro così non è stato aspetteremo ancora qualche mese che la cosa venga definita soprattutto dovrà essere definita come ovviamente comprendiamo gestendola soprattutto nei giorni mercatali perché questo comporterà magari lo spostamento o ridisegnare leggermente la disposizione di alcuni banchi del mercato ok grazie ultima interrogazione di Chiaricutura gruppo misto Iorti Urbani Forgiore dunque innanzitutto volevo farvi notare la mia parte democratica perché questa sera ho lasciato spazio ad altri colleghi quindi mi riservo per il prossimo consiglio a sopperire a questa mancanza allora tornando all'interrogazione questa sera ci troviamo credetemi se avessi potuto l'avrei evitato a parlare per l'ennesima volta degli orti urbani gli orti urbani che dovevano essere luoghi di svago per qualcuno luoghi di tranquillità per qualcun altro e luoghi di socializzazione per tutti ben presto se ne scoprì il fallimento a testimonianza di ciò vi è la mancanza di collaborazione tra il comitato voluto da questa amministrazione e l'amministrazione stessa per motivare il contenuto di questa interrogazione permettetemi se faccio dei piccoli flash il 2 ottobre del 2012 invitato dal presidente del comitato in qualità di consigliere comunale fece un sopralluogo agli orti urbani dove riuscì a constatare le effettive anomalie che si erano venute a creare nei lotti per volontà dei concessionari e percepì anche la giusta elementare del presidente signor Diano sempre nella giornata del 2 ottobre fu mia premura scattare delle foto che accompagnate da una mia accurata relazione il giorno 11 ottobre sempre del 2012 consegnai al signor sindaco il quale mi assicurò il suo interessamento il comitato segnala a questa amministrazione l'inosservanza del regolamento da parte della maggioranza degli assegnatari e lo fa con una lettera datata 8 ottobre 2012 arriviamo al 17 gennaio 2013 quando dagli uffici servizio patrimoniale parte una lettera indirizzata al presidente signor Diano con la quale gli viene ricordato l'obbligo di segnalare all'amministrazione il mancato rispetto dei vari concessionari degli orti allegando alla suddetta lettera uno schema sul quale segnalare le varie irregolarità con questo gesto ritengo che siano venuti a mancare quelle professionalità che un buon ente dovrebbe possedere è il dovuto riconoscimento politico che vi è che si è tenuto se si è tenuti ad avere verso un'amministrazione di questa città ecco è una situazione che io non voglio allarmare nessuno però non è una situazione felice perché ha il compito non tra virgolette vigilare ma fare in modo fare in modo che il regolamento venga rispettato ecco ho saputo che all'inizio di questa settimana doveva esserci un sopraluogo dall'ufficio da dall'ufficio mi pare dell'ufficio tecnico per andare a individuare le le segnalazioni che sono state fatte non so se è avvenuto questo questo sopraluogo e segnalo inoltre che si è creato all'interno di queste di queste casette che fabbricate sono sono create delle infiltrazioni d'acqua giustamente l'amministrazione dice nessuno si permette a modificare niente perché sarà chiamata la ditta che ha fornito le casette e rimedierà a tutto ancora non è avvenuto ecco cioè secondo me è qualche cosa che non sta in piedi di questo allora se c'è la volontà di portare avanti questo progetto che io ho sempre condiviso dall'inizio perché risponde l'assessore Gallegaro grazie presidente consigliere io magari dico delle cose ovvie come si dice dalle mie parti in un contesto del genere vi sono due indicazioni che posso permettermi di esprimere io sono conscio che magari lei è a conoscenza di questi processi uno è il percorso politico che stabilisce la volontà di realizzare un intervento dall'altra parte vi è un percorso burocratico che porta al controllo del compimento e dell'attuazione degli atti quindi e anche questi atti sono abbastanza complessi e richiedono procedure che non sono immediate quindi tutte le parti convenzionali hanno bisogno per il rispetto di queste parti di procedure previste dalla normativa quindi non le sto dicendo nulla di nuovo che quando si rileva un abuso o un qualcosa si innesca tutto un meccanismo che non è immediato come potrebbe sembrare ai più per cui so che parlo con una persona competente e quindi è a conoscenza che questi processi necessitano di tempi relativamente lunghi questo consiglio ha approvato proprio un regolamento con la partecipazione politica di tutti i gruppi quindi rispettando quelli che sono gli indirizzi della legge ad esempio 81-93 che separa il ruolo politico da quello amministrativo e delegando dopo l'approvazione di questo regolamento alla struttura la gestione poi del contesto quindi il consiglio ha approvato con la delibera 147 del 30 gennaio del 2011 il regolamento degli orti urbani questa amministrazione ha effettuato i controlli doveva esserci un sopralluogo lunedì scorso ma a causa della neve questo sopralluogo congiunto non è stato effettuato ma verrà fatto e quindi questa amministrazione sta effettuando tutti i controlli del caso per verificare quello che è stato rappresentato tramite le segnalazioni e le fotografie e sempre ai sensi dell'articolo 12 di questo regolamento verranno svolti i controlli puntuali e più approfonditi per accertare il rispetto del regolamento e le eventuali responsabilità e qualora accertate prendere i provvedimenti del caso che saranno conseguenti quindi l'amministrazione non ha preso sotto gamba la segnalazione è chiaro che in qualche modo è parte attiva a far sì che gli atti emessi dall'amministrazione stessa vengano osservati dai cittadini ma come in tutti i contesti questo si confronta un po' con con l'educazione della contraparte magari qualcuno è rispettoso e osservante di tutti i regolamenti e qualcuno magari l'interpreta ad uso e consumo proprio quindi in quei casi lì l'amministrazione senz'altro non chiuderà gli occhi mozione presentata dal partito democratico linee di indirizzo per la gestione chiedo scusa chiedo scusa Furgiole se permetti vorrei chiedo scusa le interrogazioni richiedono il tempo massimo di 5 minuti tu hai fatto 5-10 secondi bisogna calcolarli te li dici e te li puoi leggere lì devo dire se sono soddisfatto no no e anche quello puoi leggere lì tu puoi dire soddisfatto o non soddisfatto nel tempo di 5 minuti non hai passato hai superato il tempo di 10 secondi se vuoi dire soddisfatto o meno se vedo che vengono superati 2 secondi andiamo alla mozione del partito democratico linee di indirizzo per la gestione futura della giovane ventitresimo in seguito all'audizione del commissario prego manuele olia allora era una mozione urgente e non soprattutto il sindaco ma tutto il consiglio ha ritenuto che non fosse urgente e infatti quello che c'è scritto all'interno della mozione non è stato preso in considerazione all'interno del bando che è stato pubblicato non ci sono i riferimenti alla collaborazione fra le varie ipab del territorio di Chieri come era stato chiesto in commissione e diciamo che per fortuna il commissario giunta molto gentilmente correttamente ha risposto punto per punto mandando un suo documento però come dire l'aspetto politico della mozione che era dare un indirizzo da parte del consiglio non è stato recepito dopodiché il commissario giunta ha fatto il suo lavoro che era quello che ci ha detto in commissione l'ha portato a termine e diciamo ci siamo persi con questo un'opportunità sulla valutazione dell'urgenza o meno francamente trovo che siamo veramente abbiamo dei criteri che sono oggettivamente diversi da quelli di questo consiglio questa sera insieme così come è stata rimandata questa mozione per cui è stato inutile questa questa sollecitazione ad agire in senso politico del consiglio lo stesso è inutile questa sollecitazione visto che le decisioni sui nostri servizi sanitari stanno per essere prese mi sembrava che il sindaco si potesse sedere al tavolo anche forte di una posizione del consiglio ma non la vogliamo prendere quindi sono veramente un po' colpita dal dal disinteresse che questi temi sollevano o come dire devono essere lasciati ad una gestione puramente politica politico tecnica che si fa in altre stanze che non sono il consiglio comunale detto questo data il fatto che comunque il bando è stato emesso non ci sono i criteri che abbiamo richiesto ci sono le motivazioni del commissario che ci sono arrivate questa sera riteriamo la mozione purgiovele sì allora penso che come amministratore di questa città il nostro dovere impegnarci fino all'impossibile affinché il Giovanni XXIII venga risanato ha la ritirata chiedo scusa eh no mi ha dato la parola eh no chiedo scusa Manuel ha detto l'hai ritirata la ritirata no purgiovele eh no tu mi hai dato la parola non l'ho sentito io eh passiamo alla mozione seguente eh sempre del partito democratico per la conservazione del servizio scuola bus sì la mozione impegna a garantire il mantenimento per il prossimo anno scolastico del servizio scuola bus nelle tratte già esistenti eh in particolare per eh le tratte che collegano eh alcune zone della città ai plessi indicati nella mozione soprattutto perché le iscrizioni sono state fatte senza essere a conoscenza del fatto che eh che questo servizio non sarebbe più stato attivo verso quei plessi questo ci è stato riferito da eh famiglie che hanno iscritto i bambini ragazzi i bambini in questi plessi scolastici quindi i neo iscritti in questi plessi non erano a conoscenza del fatto che un altro anno dovranno attrezzarsi eh per andare a scuola senza scuola ma a questo proposito volevo dire che non è giusto dire che le famiglie non sono state avvisate perché abbiamo i documenti che dicono il contrario eh riguardano eh no il trasporto scolastico proprio della linea 8 e avvertivano più che in tempo che da quella zona là non si potesse più andare verso la Guarini ma rimanevano le famiglie che andavano a iscriversi in quella in quella fuori da da quella zona dalla zona e io ho tutta una documentazione se vuoi visibile in cui si va a dire oltretutto abbiamo avuto incontro con i dirigenti in tempo proprio perché si facessero portatori anche di questa nuova perché bisogna in qualche modo perché se ripartiamo dalla prima è giusto poi dobbiamo arrivare di nuovo alla terza ancora per tre anni e per poter dare un servizio adeguato forse non bastano le risorse che abbiamo perché bisognerà impegnare ancora 26.000 euro poi il problema è che i bus se vuole io le do le zonizzazioni perché la nuova scuola è basata su determinate zone è chiaro che ognuno è padrone di andare dove vuole però deve se non rispetta questo tipo di scelta è chiaro che si deve impegnare a portare i bambini dove decide di fare perché altrimenti è difficile poter gestire ancora un trasporto che possa soddisfare queste esigenze è dalla prima perché fino alla terza media quelli che erano iscritti alla media è da qualche anno poi che gli abbiamo detto l'ultimo anno è quel sapendo che quest'anno partivano i dimensionamenti nuovi e quindi le zonizzazioni che si sono venute a creare io ho sentito anche la dirigente della Guarini perché il problema è successo per la Guarini perché alcuno vogliono andare verso la Guarini addirittura ho sentito il presidente dei responsabili dei genitori che lui ha scelto di mandare un bambino alla Guarini e lui stesso mi ha detto ma io lo sapevo e io ho scelto questo e porto il mio figlio là quindi non è proprio così poi è presente tutta la documentazione che gli uffici possono fornire o se vuoi ce l'ho anch'io Forgiore Sì allora occorre inizialmente evidenziare come a livello normativo il servizio di trasporto alunni diversamente definito scuola bus rientri nel più vasto concetto di assistenza scolastica le cui funzioni amministrative sono state attribuite dalle regioni ai comuni spetta dunque la regione di regolare in mezzo di apposite leggi le modalità di svolgimento delle funzioni comunali in materia di trasporto scolastico in particolare per quanto attiene agli alunni frequentando le istituzioni scolastiche di scuole di infanzia primarie e secondarie di primo grado la regione piemonte con legge 29 aprile 1985 numero 40 ha dato attribuzione al citato articolo 45 assegnando ai comuni con l'articolo 9 le funzioni di cui l'articolo 42 dello stesso decreto ovvero le funzioni amministrative relative alla materia di assistenza scolastica concernente tutte le strutture i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazione e providenze di denaro in denaro o mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private e tra queste ovviamente il servizio trasporto alunni la competenza è dunque riferita a interventi di trasporto allo stesso modo degli interventi di mensa quindi sia per gli alunni che per gli altri all'obbligo di istituire il servizio e quindi di gestire le forme e nei modi che ciascun comune singolo associato affiderà ai propri strumenti regolamentari fermo restando l'impegno morale a svolgere tutte le azioni necessarie per attuare gli interventi di trasporto degli alunni delle scuole di prima citate inoltre tenco ammettere in rilievo che il trasporto degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado deve essere opportunamente attivato per gli alunni che si trovino in situazione particolare di disagio geografico non solo i comuni hanno l'obbligo di assicurare il trasporto speciale di quelli studenti che si trovano in situazione particolare di disagio geografico come distanza tra scuola e casa ma anche per gli studenti di sabbia detto ciò detto ciò il Movimento Chieri Futura trova giusta la preoccupazione dei cittadini che abitano nelle zone riportate nella mozione e si associa all'invito fatto al sindaco e alla sua giunta affinché venga mantenuto il servizio scuola bus per il prossimo anno scolastico benedicente ma io sono un po' costernato perché leggendo la mozione avevo capito anch'io che sarebbe stato giusto che ci fosse questo ancora questo scuola bus poi da quanto ha detto anche il sindaco adesso ma da quanto mi sono informato anch'io prima qualcuno effettivamente mi ha detto che sì avevano ricevuto queste lettere per cui per il dimensionamento e il riordino delle scuole non ci sarebbe più stato questo scuola bus a partire dal 2013 2014 l'unica cosa che non avevo ancora capito bene chiedo magari se qualcuno può spiegarlo è perché quelli che si sono scritti quest'anno come facevano saperlo o forse dovevano saperlo che in base al riordino delle scuole la tua scuola non era più l'acquarini senza aver ricevuto nessuna lettera perché qualcuno probabilmente c'è stato questo malinteso qui dice io la lettera non ho ricevuta perché l'ho scritto per il primo anno adesso a febbraio scrivono i bimbi però questi avrebbero dovuto sapere in automatico che in base al riordino delle scuole non era più l'acquarini quella lì ma tangenziale grazie altri interventi dichiarazione di voto chiedoci no 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 allora abbiamo visto la documentazione che ha dato che ci ha fatto vedere il sindaco allora questa documentazione sostanzialmente attesta che chi era già iscritto ogni anno che qualcuno che era fuori da quando si sa della riorganizzazione appunto degli istituti comprensivi della zonizzazione diciamo chi era iscritto alle quarini ed era fuori zona veniva informato c'è stata una carenza di informazione infatti questa documentazione quello sì su chi quest'anno si scriveva in prima e si è iscritto lì sapendo che c'era il servizio per qualche ragione su questo c'è una carenza comunque sì sì perché c'era l'iscrizione online su cui infatti fa riferimento tutta questa documentazione e documentazione è inviata a gente che si è iscritta al servizio del trasporto scolastico verso le quarini a settembre quest'anno facendo prima seconda o terza media che comunque non gli interesserebbe più a questi qui è stata data l'informazione guarda che eccezionalmente accettiamo l'iscrizione da un altro anno non ce l'hai più il servizio quelli sono stati informati in effetti quelli che hanno chiesto a noi di attivarci sono persone che si sono iscritte online alla quarini quest'anno senza sapere che questo servizio non c'era perché a loro questa informazione non è arrivata non c'era sul sito della scuola c'era anzi hanno detto c'era scegliendo la scuola sul sito online c'era scritto se uno voleva usufruire o meno del servizio di scuola quindi indicava quello pensando che ci fosse sappiamo che dalla zona di strada Andezzeno quell'area lì sono più decine di persone di ragazzini che hanno scelto quella scuola e quindi ci siamo fatti portavoce di questa istanza comprendiamo che si è voluto dare un criterio per la sostenibilità del servizio quindi ritiriamo la mozione anche se dal punto di vista della comunicazione non è arrivata ai nuovi iscritti mozione successiva presentata da Olia Furgiuele Cucci Pasano mozione contro la chiusura dell'ufficio territoriale dell'agenzia delle entrate di Chieri chiede la parola chiede la parola nessuno ci vera si si chiedo scusa mi ero distratto ma lo presento io ma in realtà c'è poco da presentare nel senso che questa mozione era stata scritta oramai già alcuni mesi fa nella speranza nell'intento che tra l'altro fosse sottoscritta da tutti i gruppi consigliari perché l'intento era quello di offrire uno strumento al sindaco nel momento nel momento in cui si sarebbe confrontato o si è confrontato e penso che si sia già confrontato con l'agenzia delle entrate per rappresentare una posizione di netta contrarietà da parte di tutto il consiglio comunale e quindi questa mozione serviva a sancire questa posizione facendo come dire anche la dovuta gran cassa quindi anche qualche intervento un po' eclatante di coinvolgimento del territorio perché qui del territorio chiarese perché qui non è solo un problema di Chieri ma un problema di tutto il Chierese perché credo che non ho sentito nessuno che sia contento dell'eliminazione di questo servizio tutti lo ritengono una grave perdita e tutti sarebbero disponibili a fare qualcosa per vedere di riconsiderare questa scelta una scelta che mi sembra anche non lo so magari mi sbaglio il sindaco può essere che abbia qualche informazione in più di quello che ho io una scelta che vista anche l'aria che sta tirando in generale potrebbe anche essere riconsiderata però in ogni caso credo che il consiglio comunale di Chieri e possibilmente quella di tutti i consigli comunali del Chierese che si servono presso questo consiglio presso questa agenzia dell'entrata si esprimessero con forza nel dire noi non la vogliamo se poi ce la toglierete ovviamente dovremmo chinare la testa però sappiatelo che lo riteniamo un grave torto perché io sono andato a vedere e non c'è nessun'altra agenzia territoriale che sia stata eliminata in provincia di Torino quando anche servono popolazioni molto più piccole bacini territoriali molto più piccoli apparentemente la scusa della vicinanza con Torino è una è una cosa che può valere se uno non si rende conto di quanto tempo ci vuole per un anziano andare in Torino ma in realtà probabilmente è molto più veloce arrivare da Curnia a Torino per citare un'agenzia territoriale che è stata mantenuta con dei numeri sicuramente e immagino degli accessi sicuramente più piccoli e poi un'altra cosa è anche che era anche un modo per secondo me esprimere da parte del Consiglio Comunale e spero anche di tutto il territorio anche un apprezzamento per il lavoro svolto dall'agenzia territoriale di Chieri perché il semplice numero degli accessi che non sia troppo elevato non vuol dire per forza che sia poco usato vuol dire che la gente quando va trova soddisfazione ai propri problemi non deve ritornare tre, quattro cinque volte va una volta sola magari non fa nemmeno tantissima coda e risolve il proprio problema quindi i piccoli numeri relativi perché poi in realtà non sono assolutamente piccoli sono numeri però che denotano anche che c'è una produttività e c'è un'efficienza da parte di questo servizio per cui se poi qualcun altro ancora vuole aggiungere la propria firma sotto la mozione ovviamente non è targata non è polemica se non nei confronti della direzione generale dell'agenzia delle entrate lo si può fare sono d'accordo nel fatto che Chieri discorso che è stato fatto col direttore a Torino dell'agenzia delle entrate è un discorso di di mancanza di organico che costringe a razionalizzare adesso non hanno toccato Mongalieri perché i numeri di Mongalieri dice che io non so questa realtà qual è perché non la frequento tanto i numeri portavano dei numeri molto più di quelli nostri però non c'era nessuna possibilità almeno non sono andato da solo sono andato anche con Antonio Vigliani vice sindaco col direttore generale in modo da cercare di forzare un momentino noi ci siamo abbiamo dato l'impegno che in qualche modo in qualche modo eravamo d'accordo nel disposto a dargli dei locali nostri degli sportelli nostri sono sono in collegamento sempre con Masera che è quello che è più colpito perché è uno che già dà una vita che lavora in quella direzione stiamo aspettando che loro ci dicano di quando sono disposti a venire a visionare in modo da dirci di che cosa hanno bisogno e di che cosa noi riusciamo e dove è meglio farlo ma pensiamo di farlo all'interno del comune in una zona magari dove ci sono gli sportelli Ica o altro vedremo in base alle loro necessità per cui oggi ma sono due o tre giorni che sollecito però la direttrice ha dei problemi perché sta facendo un congresso qualcosa che questi giorni ma io spero perché entro venerdì se non mi telefona la cerco di nuovo in modo da da poter chiarire questa roba qua e questo è quando devo anche dire che tra i comuni limitrofi chi è che era più sensibile è stato Ludovico Giglio di Riva che addirittura si era impegnato magari a parlare lì nei locali dell'Embraco perché riteneva che si rendeva disponibile però noi di Chieri vedendo il numero degli abitanti di Chieri vedendo quale poteva essere quello che il servizio che c'è stato e che era ottimale quindi assolutamente ci siamo resti disponibili per dar noi questa accettazione diciamo è tutto qua interventi non ci sono interventi dichiarazione di voto posso? un clima surreale devo dire che si creano oramai sempre più frequentemente in questo consiglio comunale io cerco di mantenere un profilo di calma anche se devo dire che mi sento abbastanza bollire dentro guardate quello io vabbè tanto sono alla fine di questo percorso amministrativo per una mia scelta e quindi mi permetto di dire proprio spassionatamente quello che penso probabilmente questo consiglio comunale non credo i chiarese ma questo consiglio comunale non si rende assolutamente conto che uno Chieri il sindaco di Chieri è il sindaco del Chierese quello che fa il sindaco di Chieri conta per tutto il Chierese perché oramai non si ragiona più in termini di campanile sarà sempre più così e sarà sempre più in termini di territorio secondo noi siamo sempre assenti come Chierese da tutti i tavoli che contano noi non alziamo mai una volta la voce guardate che la difesa del territorio si fa a volte sapendo che forse è una battaglia che si perde ma la si fa combattendo perché ci si guadagna dei crediti se una volta non ti tolgono una cosa ma tu ti sei battuto e hai fatto valere il tuo orgoglio di territorio la volta dopo qualcuno si sentirà in dovere di dare a te e di togliere a qualcun altro ora il Chierese è sempre assente dappertutto questi atteggiamenti remissivi non c'è stata nessuna dichiarazione di voto ma credo che sia come dire molto esplicito il silenzio è una esplicita dichiarazione che la cosa non interessa è veramente demoralizzante e la trovo una visione perdente perdente guardate che qui stiamo facendo dei passi indietro per questo territorio che diventerà un deserto economico anzi già avviato a diventare un deserto economico sarà con l'area metropolitana quando ci sarà la provincia metropolitana un'anonima periferia dormitorio di Torino questa preoccupazione questa preoccupazione va a toccare a ferire i cittadini prima i cittadini chiarese ma tutti come si diceva qualche collega tutti i territori chiarese pensiamo soltanto pensiamo soltanto all'affluenza che i vari uffici delle entrate hanno sia a Moncaliere che a Torino se aggiungiamo all'affluenza giornaliera quella del luogo quella che può aggiungersi dei chiarese di chiarese ma io penso che non è stata valutata positivamente questa preoccupazione qua il disagio che può affrontare una persona diversamente giovane a recarsi agli sportelli per un motivo qualsiasi non è assolutamente facile sia per lo spostamento sia per il tempo necessario che è sempre un punto interrogativo andando in questo ufficio ecco io mi associo alla preoccupazione del collega Civera e invito i colleghi della maggioranza a questa volta veramente a mettersi la mano sulla coscienza e cercare di votare a favore di questa mozione non per la mozione in sé ma per portare effettivamente un contributo ai propri cittadini Robato ma siccome io ho piena fiducia nelle parole che ha detto il nostro sindaco mi sembra di aver sentito che lui si è attivato in prima persona insieme al vice sindaco insieme al direttore generale per perorare la nostra causa quindi questo non significa che non ci si attiva non ci si lavora e non si va nell'interesse della cittadinanza chiarese e non si ha sensibilità mi sembra tutto l'opposto purtroppo immagino che ci siano delle decisioni che arrivano da direzioni generali di agenzie centrali le quali non possono alle quali non possono opporsi forse neppure il consiglio comunale neppure le amministrazioni stesse io ho piena fiducia di quello che il sindaco ha detto se lui si è attivato ha parlato con le persone responsabili e competenti ai più alti livelli e questi tutt'al più hanno dimostrato la loro attenzione nel voler venire a visionare e verificare queste cose noi cosa possiamo fare d'altro non penso che sia proprio un'accusa quella che ci vera rivolge al consiglio comunale e all'amministrazione è un'accusa che non abbia senso noi la rigettiamo il sindaco si sta dando da fare e aspettiamo con fiducia quello che verrà detto Cucci Cucci grazie allora come avete visto noi del centro democratico indipendente siamo confirmatari di questa mozione certo io ho sentito quanto è stato detto da Civera riguardo all'impegno del sindaco dell'amministrazione mi pare che non è proprio così però ognuno è libero di dire quello che sente però se mi permettete riguardo a questa mozione e mi rivolgo davvero a tutti quanti i consiglieri se vogliono ascoltare ascoltare vuol dire non avere preconcetti perché abbiamo deciso in un modo e quindi non ascoltiamo nemmeno se vogliamo ascoltare è questo questa mozione pur riconoscendo il sindaco che si è attivato abbiamo ascoltato benissimo e che giorno dopo giorno cerca di mettersi in contatto per sapere quindi quali sono le esigenze e poter insieme concertare concordare una sistemazione però proprio perché bisognerebbe confrontarsi senza preconcetti no? ma questo lo dico alla maggioranza come anche alla minoranza perché alle volte si è un po' pesanti quando si dice ecco l'amministrazione non fa abbastanza per farsi valere perché non è sempre così non è sempre così e bisogna riconoscere io a questo punto vorrei che cadessero queste barriere tra virgolette psicologiche perché eh lo presentiamo noi e non voi ecco qui lì cosa impegna questa mozione e è qualcuno che ride su quello che sto dicendo perché pare che non lo so il perché dei miei colleghi dietro questa mozione impegna il sindaco a prendere dei provvedimenti e dare soluzione a questo problema cosa che sta già facendo però se si producesse quindi una mozione votata quindi approvata sarebbe un rafforzare quello che sta facendo già il sindaco per mio conto e sarebbe anche una dimostrazione che non ci sono queste barriere quando si fanno le cose solo perché lo fa la maggioranza io dico di no lo fa la minoranza voi dite no io credo che questo è l'interesse di tutti quanti risolvere questo problema e avere una mozione di questo tipo credo che non andrebbe a portare pregiudizi per nessuno anzi sarebbe un rafforzamento scusate se sono stato troppo prolisso in cose che si possono dire in due minuti però la dovevo dire Emanuela il vostro gruppo ha fatto la dichiarazione di voto se tu dissenti se dissenti se no non puoi intervenire non dissento volevo dare ragione a Cucci quindi non era mi ero dimenticata di questo passaggio Caivano volevo anche nella dichiarazione di voto che sicuramente no a questa mozione e mi dispiace che Riccardo dica che noi non siamo non controlliamo il bene della città e non sappiamo cosa vuol dire non esserci l'ufficio delle entrate più a Chieri mi dispiace stai dicendo una cosa errada eh ho capito questo vabbè ho capito male io allora comunque solo i chieresi sanno e mi dispiace che questo consiglio comunale l'hai detto tutto prima e solo i chieresi forse sanno comunque io voglio solo dire una cosa che comunque il sindaco si è adoperato sia per la finanza perché la finanza non ho visto nessuna mozione comunque portata qui perché la finanza è andata via eh ok quindi si è adattato si è adattato per la finanza è andato è andato per la finanza e si è mosso per la finanza si è mosso per l'emodinamica è andato a vedere per l'emodinamica anche idem su quello e quindi sono tutte cose che comunque la maggioranza si sta dando da fare e cercando che non vada via appunto però il resto se parte dall'alto cosa bisogna fare noi come consiglio comunale spiegami cosa possiamo fare noi come consiglio comunale e dire qualcosa è quello che sta facendo il sindaco è quello che sta facendo il sindaco cosa ti deve dire ancora di più Manuela ma però voi non vi abbiamo visto quando noi andava Borgioele allora Borgioele un attimino poco prima tu sei intervenuto hai detto con dichiarazione di voto che votavi a favore della mozione non è affatto sono d'accordo non ho fatto la dichiarazione di voto per me era una dichiarazione di voto senti di cosa vuoi che vengo col bavaglio no dimmelo se devo venire col bavaglio che sto zitto non parlo più vuoi fare un'altra dichiarazione di voto io l'ho capito allora io vorrei sapere per l'emozione spettano un quarto d'oro o no Borgioele tu il regolamento lo conosci come me o forse meglio dopo aver fatto la dichiarazione di voto non si può più fare interventi ma io voglio fare la dichiarazione di voto posso farla avevi già fatto la dichiarazione di voto in via eccezionale rifarla ma ma quella è scema per me il regolamento non ti consente di intervenire poi se tu la parola te la vuoi prendere io te la dovrei togliere ma sono io presidente per cui io chiedo a testimoniare i colleghi ha fatto la dichiarazione di voto o no e allora non posso non posso darti la parola per cui pensaci per le prossime cose quando dichiari non puoi più intervenire ma io non ho fatto non posso darti più la parola mi dispiace allora altri interventi non ci sono interventi altre dichiarazioni di voto non ci sono altre dichiarazioni di voto presidente sarei dice altre dichiarazioni allora io ne faccio un'altra altre dichiarazioni per i gruppi che non ne hanno fatto ci sono dei gruppi che non hanno fatto dichiarazione di voto non intendono farle non intendono farle per cui metto in votazione la mozione prenotarsi per la votazione è aperta la votazione votare votazione chiusa grazie a tutti Esito della votazione. Presenti 28, favorevoli 11, Bagna, Olia, Civera, Biglia, Maspoli, Benedicenti, Cucci, Marinari, Dario Fasano, Furgiuele, Foglio. Contrari, sono 17, Vasino, Emma, Fasano, Rappazzo, Tamagnone, Stellato, Burcarello, Mercurio, Triolo, Passarello, Rubatto, Arduino, Ronco, Caivano, Sideri, Bozzalla, Grossola, Castella, Lancione. E la mozione non passa. Il dottor Morra mi chiedeva di fare una precisazione, mi voleva fare una precisazione, prego dottore. Sì, una piccola precisazione rispetto a prima, un invito a prestare attenzione al Presidente quando richiama tutti al fatto se ci siano ancora interventi e quindi invita a intervenire per dichiarazione di voto, perché così aveva fatto in questa occasione, era intervenuto il PD con Civera per dichiarazione di voto. Una volta iniziate le dichiarazioni di voto, come aveva precisato il Presidente, non è poi più possibile intervenire nel merito ma solo per dichiarazione di voto. Il regolamento penso lo conoscono un po' meglio di me, non c'è bisogno di fare storie, discussioni, per dichiarazione, se era distratta, Manuela, se no è sempre molto corretta. Il tempo a disposizione dell'ora e mezza è terminato, passiamo agli altri punti. Approvazione verbali delle sedute del 13 e 19 febbraio. Prenotarsi per la votazione. Aperta la votazione. Votare. Votazione chiusa. Presenti 27, favorevoli 27, andiamo avanti. Punto successivo. Regolamento generale delle entrate. Modifica. Su questo regolamento c'è un emendamento presentato dal Partito Democratico. Come sapete viene discusso il punto, viene discusso l'emendamento, poi si vota l'emendamento e poi si vota il punto finale. I consiglieri ce l'hanno, l'emendamento? Non ho capito. I emendamenti non sono stati distribuiti? Non pensavo fossero già stati distribuiti. No, se no devo leggere. Avevamo fatto una copia per la distribuzione che verrà fatta subito. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Presidente, se nel frattempo vorrei, per cortesia, incominciare a leggere l'emendamento, forse è meglio. L'emendamento viene distribuito. Non c'è bisogno che io lo legga? Deve rimanere agli atti, per cortesia, se vuoi leggerlo. Chiedevo, le note aggiuntive alla seduta del Consiglio Comunale, che dovrebbero essere nel materiale, tutti gli emendamenti. Vediamo se qualcuno non ce l'ha. Ce l'avete tutti? Mi sembra di sì. Nessuno si lamenta, quindi tutti quanti avete ricevuto le note. Allora, ripeto, si apre la discussione sul punto, poi sull'emendamento, poi viene votato l'emendamento e poi viene votato il punto emendato. Allora, do la parola all'assessore al bilancio, Vigliani. Buonasera a tutti. Questa proposta di delibera riguarda il regolamento generale delle entrate per le quali vengono proposte alcune modifiche. Una prima modifica è quella sull'articolo 6, in cui si introduce un punto 4, che è quello relativo al versamento di entrate disposto con mezzi elettronici per i quali ci possono essere oneri a carico del debitore, ma nella misura fissata dall'aggiunta comunale. Vi dirò subito poi a seguire l'illustrazione l'esito di un incontro con i rappresentanti dei genitori. Il punto saliente è l'articolo 13, in cui si introducono in sostituzione del precedente meccanismo che prevedeva, quello vigente ancora quest'anno, che prevedeva che all'atto dell'iscrizione l'eventuale permanere dell'amorosità riferita all'anno precedente avrebbe comportato l'automatico passaggio da parte di quelli che godevano di tariffa agevolata in tariffa ordinaria. In questo caso si andrebbe ad eliminare questo meccanismo per non appesantire l'aspetto economico e limitatamente agli asili nido e alla scuola dell'infanzia, riferendoci per l'asilo nido, all'asilo nido in quanto tale, per la scuola di infanzia alla mensa, si precisa che il servizio viene rinnovato per gli anni successivi soltanto se i richiedenti risultano in regola con i pagamenti dei servizi scolastici degli anni precedenti. Così come nell'articolo 13 viene introdotto il comma 9.2 in cui si introduce appunto come causa di sospensione del servizio sempre di vuoi di asilo nido, vuoi di mensa scolastica della scuola di infanzia la interruzione del servizio, ovvio previa di fida e quindi trascorsi i tempi necessari perché i soggetti possano mettersi in regola, interruzione del servizio con decorrenza dal mese successivo alla scadenza della di fida stessa. Poi il regolamento introduce anche all'articolo 14 un comma 9 nel quale si ipotizza, cioè si introduce la norma in base alla quale per i minori facendo parte di nuclei familiari in precaria situazione economica, seguiti e assistiti dal servizio sociale e professionale praticamente questo sospensione del comune sarà a carico dello stesso servizio. Su questo tema abbiamo iniziato le riunioni con il consorzio socioassistenziale il quale ovviamente doveva fare una ricognizione per armonizzare le situazioni tra i vari comuni va da sé che eventualmente ci siamo anche impegnati col consorzio che questa norma potrebbe anche costituire, estrema razio, occasione di erogazione di un fondo integrativo al consorzio stesso. L'articolo, poi mi ritornerò sull'aspetto della mensa, all'articolo 18 in quanto riguarda i parcheggi vengono introdotte modifiche in merito alle zone riservate alla possibilità dei residenti del centro storico di parcheggiare a titolo gratuito la vettura e quindi sostanzialmente all'interno della zona ZTM vengono escluse piazza Duomo, piazza Umberto, piazza Mazzini, piazza Mosso, via Balbo, via Tana, via Santa Clara e via Principe Amedeo. Alcune di queste vie fino ad oggi era consentita la sosta gratuita. Per contro questa sosta gratuita viene consentita in piazza Dante, in via Robbio, in via Gualderia e in via delle Rosine. Per quanto riguarda l'aspetto degli articoli 13 e 14 che sono stati poi anche oggetto della proposta di emendamento presentata dal PD, mi corre l'obbligo di precisare l'esito di un incontro avuto la settimana scorsa con il COGEN, i rappresentanti dei genitori, nel quale si è confermato un rapporto assolutamente collaborativo. I genitori direi che hanno posto l'attenzione più sul discorso del onere del 2% per i pagamenti con carta di credito e a questo proposito, diciamo come amministrazione, ci siamo impegnati a verificare la situazione con gli uffici e siccome tanto il tutto è demandato la determinazione dell'entità a una delibera di giunta comunale, vi terremo informati su quelle che saranno le risultanze di questo monitoraggio e le conclusioni a cui arriveremo. Sul aspetto della morosità è un tema che i genitori stessi hanno confermato essere un tema anche di loro preoccupazione, cioè non hanno nessun interesse che questo fenomeno si diffonda. Tra l'altro comunico che l'aver parlato soltanto del tema ha fatto sì che se a gennaio la morosità rilevata era del 18%, a marzo, non vi so dire il giorno esatto, è stata rimonitorata e la morosità è del 9%. Quindi vuol dire che sensibilizzare è utile e a proposito di sensibilizzare i genitori hanno convenuto con noi che sia anche una questione di informazione e quindi c'è la disponibilità da parte di alcuni di loro esperti in materia di collaborare con gli uffici proprio per garantire in tal senso una maggiore informazione. quindi nella sostanza mi sembra che il problema sia tutto sommato sotto controllo, non è oggetto di particolari proteste da parte degli fruitori e fermo restando che ovviamente tutte le norme che sono in nostro possesso garantiscono ovviamente di intervenire nel modo adeguato nei casi in cui ci sia effettiva indigenza o difficoltà temporanee eccetera. Interventi. Bilga Sì, volevo prima di entrare nel merito della discussione e presentazione dell'emendamento volevo soltanto commentare una cosa che ha detto l'assessore Vigliani e cioè che ha scoperto con l'incontro avvenuto che noi avevamo richiesto in commissione consigliare quello sarà quasi 3-4 settimane fa con le rappresentanze dei genitori ha scoperto che c'era questo problema della commissione del 2% quando già durante quella commissione consigliare non perché siamo particolarmente intelligenti ma perché parliamo con le persone sarebbe meglio farlo prima di uscire con un regolamento, una proposta di regolamento c'era già stato riferito che c'era questa commissione del 2% che si riteneva iniqua e in alcuni casi anche diciamo non incoraggiava a pagare la mensa online e se uno non poteva recarsi agli uffici per pagarla all'ICA poi risultava amoroso e quindi ci si era già accordati in commissione consigliare sul fatto di cercare un accordo per mettere un fisso che fosse una cosa che non penalizzasse quindi vorrei stigmatizzare il fatto che di nuovo l'assessore si stupiva in commissione che avessimo commentato che non vi ha insegnato niente l'approccio a Lise Chieri nel senso che prima di fare una proposta che va a incidere sui cittadini che non sono solo dei contribuenti bisognerebbe confrontarsi con cui poi le scelte politiche le subisce vorrei soltanto una precisazione il metodo di pagamento con carta di credito è uno dei tanti metodi possibili non esiste soltanto quello più scomodo di accedere agli sportelli esiste anche quello del bonifico online che ovviamente non subisce il 2% risulterebbe, ma gli uffici stanno verificando che l'utilizzo della carta di credito sia assolutamente minoritario parerebbe di nuovo dal confronto sempre con chi il servizio lo utilizza che sarebbe anche stato utile avere i riferimenti dell'Iban della possibilità di pagare con bonifico direttamente sul sito del comune dove c'è il pagamento della mensa direi che l'assessore ha presentato qual è la soluzione che il comune di Chieri propone nel regolamento delle entrate per fronteggiare questo problema delle morosità questa sera appunto abbiamo anche approfondito il tema della quantità non siamo di fronte ad un fenomeno che è bene tenere monitorato ma a un fenomeno che non è fuori controllo per il comune di Chieri allora l'emendamento che abbiamo presentato nasce dalla discussione che era già stata presentata ai consiglieri in commissione nel senso che il regolamento prima lo proponeva per tutti i ragazzi che frequentavano la scuola compresa la scuola dell'obbligo ora lo propone solo per i bambini della materna propone un meccanismo diciamo deterrente nei confronti di chi ha una morosità che colpisce il bambino cioè il bambino che accumula una certa morosità al bambino che accumula una certa morosità non viene più consentito di mangiare a scuola oppure in fase di iscrizione sostanzialmente chi non è in regola con il pagamento non viene iscritto alla mensa nell'anno successivo questo meccanismo produce il fatto che le famiglie possono essere maggiormente orientate a non iscrivere il bambino alla scuola materna oppure a iscriverlo per solo la mattinata invece che iscriverlo tutta la giornata ora questa è la cosa che non funziona del regolamento perché in realtà si prende una decisione che è basata su un meccanismo che discrimina i bambini a scuola non si prende una decisione a carico della famiglia di fatto si fa una la decisione che stiamo prendendo non è né piccola perché riguarda solo i bambini della materna che fra l'altro sono una quota abbiamo visto le morosità questa sera sono qualche decina i bambini non è una modifica piccola e non è nemmeno una modifica che riguarda la questione di giustizia cioè se usi un servizio è giusto che lo paghi nessuno mette in discussione questo principio però è una decisione di politica sociale è una decisione che in qualche modo tutti i meccanismi europei abbiamo mandato anche documentazione del fatto che per combattere le disuguaglianze è molto importante investire sulla scuola sulla scuola primaria sulla scuola dell'infanzia addirittura sul nido purtroppo sul nido non ce lo possiamo permettere ed è uno dei grossi handicap che l'Italia ha non avere una scuola da 0 a 3 anni per tanti bambini è una scuola che colma le differenze fra bambino e bambino ma se noi mettiamo in atto nel regolamento delle entrate un meccanismo che rende più difficile per i bambini da 3 a 6 anni frequentare la scuola oppure frequentarla per un numero minore di ore noi in realtà prendiamo una decisione che è discriminatoria è una decisione che non rispetta l'articolo 3 della costituzione che non rispetta la convenzione internazionale dei diritti del fanciullo che non rispetta la legge regionale sul diritto allo studio che mette la scuola per l'infanzia all'interno del diritto allo studio il meccanismo deterrente che era contemplato nel precedente regolamento ossia che la famiglia che aveva avuto un'agevolazione l'anno dopo se non rispettava l'agevolazione andava diciamo in quota ordinaria colpisce la famiglia non colpisce il bambino è un meccanismo più equo si parla fra adulti ci si confronta fra adulti questa cosa che quindi noi presentiamo un emendamento che sostanzialmente va a togliere quella previsione della non possibilità per i bambini di iscriversi alla scuola nel caso di morosità introduciamo però un criterio nell'emendamento è spiegato c'è un comma dieci che dice nei casi di morosità oltre 200 euro saranno adeguatamente monitorati dagli uffici comunali con meccanismi di richiamo sistematico delle famiglie con l'approfondimento delle motivazioni della morosità con finalità di arrivare al ripianamento del debito quindi nessuno vuole che il comune non si occupi delle morosità assolutamente crediamo nel ruolo educativo anche delle famiglie nei confronti delle altre famiglie ma crediamo che l'investimento che si fa nel mandare i bambini a scuola soprattutto la scuola materna sia un investimento più importante e più significativo di quello che noi potremmo ricavare dal recupero di alcune decine di morosità io credo che su questo noi dobbiamo decidere e io penso che insomma la città di Chieri visto che nel regolamento delle entrate ha cercato di fare un'operazione che andasse anche incontro ai bisogni delle famiglie non possa permettersi uno scivolone di questo tipo all'interno del regolamento delle entrate prendiamo una decisione più grande di quello che sembra sono d'accordo su quello che dice Emanuela che dobbiamo investire sui diritti del fanciullo io direi che bisognerebbe anche investire poi a livello di scuole elementari superiori sull'educazione dei genitori perché qui continuiamo a girare attorno al problema dei diritti del fanciullo ma non parliamo mai dei doveri dei genitori siamo purtroppo in un'Italia in cui certamente non possiamo generalizzare il tutto ma in cui vale il principio che io lascio la macchina in seconda fila perché tanto il vigile non passa io vado a non pagare la televisione perché tanto non mi prendono io non pago la scuola dei bambini perché tanto ci sono gli altri che pagano questa è solamente diseducazione nei confronti del fanciullo io non credo che un bambino si senta discriminato se ci sono dei tentativi di recupero di morosità da parte dei genitori anche perché mi sembra di capire che dove ci sono effettivamente delle situazioni di disagio di problematiche ci sono tutte le possibilità di farlo risolvere questo ma qui ci si renda conto ci sono delle situazioni paradossali ma reali in cui ci sono delle mamme che portano i bambini a scuola non pagano magari la mensa e poi se ne vanno al bar o in palestra ve lo garantisco a me quando ero dirigente della scuola Sant'Anna è capitato di vedere delle situazioni di questo caso allora secondo il mio punto di vista l'azione di recupero della morosità e di attenzione a colpire queste situazioni è fondamentale per l'educazione della gente qui ci stiamo dimenticando i nostri doveri di cittadino parliamo solo sempre ed esclusivamente di diritti dei fanciulli ed è giusto è sacrosanto che ci siano i diritti ma perché non si mette mai in prima battuta anche il dovere delle famiglie il dovere delle famiglie è quello di insegnare anche attraverso una certa educazione ai loro figli che si inizia fin dalla tenera età al rispetto delle regole al rispetto dei doveri che la nostra Costituzione ci impone la Costituzione se la andiamo a leggere non è solo fatta e basata su diritti è basata su doveri e questo dobbiamo rendercene conto sarà brutto doverlo dire ma non dobbiamo nasconderci dietro un dito ci sono delle situazioni di morosità veramente volute in certi casi alle quali bisogna porre rimedio Noi come Centro Democratico e Indipendente abbiamo una nostra visione della questione certamente la quando viene identificato il furbo certamente bisogna che ognuno paghi i consumi ed è giusto e che vengano anche in qualche modo se possibile sanzionati però ripeto noi in particolare come gruppo cattolico con i nostri valori cattolici pensiamo che la quando viene acclarata la palese difficoltà l'amministrazione deve intervenire come gesto di solidarietà nei confronti dei più deboli dei bambini in questi casi sì 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 allora diciamo la stessa cosa affinché non vi sia la disparità di trattamento e quindi la non sospensione del servizio perché proprio in quei casi lì quindi abbiamo capito che ci sono i meccanismi che vengono già messi in atto però questa è diciamo una situazione specialmente per i bambini in particolare può succedere davvero che ci sia il bambino che viene allontanato dalla mensa perché in qualche modo o per anche solo per un giorno perché fin quando magari non viene non entrano in moto i meccanismi eccetera eccetera diventa davvero un problema e oltretutto invitiamo eventualmente quando gli uffici invitano le famiglie che vengono identificate come problematiche cioè non inviare come abbiamo già detto anche in qualche confronto non inviare un sollecito di pagamento e basta come avviene ma là quando si va a identificare la difficoltà quindi la cosiddetta difficoltà nei pagamenti perché per i tanti motivi io la chiamo sempre povertà incolpevole che in un regolamento sembra che possa portare delle difficoltà scrivere queste cose perché poi sono tanti incolpevoli tutti si dicono incolpevoli però almeno quando si manda la lettera per sollecitare i pagamenti non mandare solo una lettera di sollecito ma eventualmente mandare una comunicazione dove si invitano queste famiglie quando si capisce che c'è la difficoltà di povertà di invitare a confrontarsi ad andare a dialogare con gli uffici preposti e chiarire quali sono le difficoltà quindi anche il rapporto non deve essere freddo tecnico degli uffici ma quando si capisce che sono queste difficoltà proprio mandare una lettera di convocazione per dire parliamone quali sono i problemi però adesso non avviene questo perché negli uffici dicono chi non ha pagato mandiamo il sollecito poi faccia quello che vuole cioè questo vuol dire umanizzare un po' anche il rapporto con il cittadino secondo il nostro punto di vista quindi queste sono le difficoltà che noi abbiamo visto e che riscontriamo quindi ci viene davvero difficile questi emendamenti non sostenerli ci vero ma accorcio di molto l'intervento perché mi ritrovo completamente in quello di di curci che mi ha preceduto quindi evito di ripetere e volevo però solo far portare rubato ragionare su un aspetto perché mi sembra che tu hai guardato il problema solo da un punto di vista e hai attribuito a noi il vederlo solo da un'angolazione e non è così quello che è difficile in un momento molto complesso socio-economico come quello che stia vivendo l'Italia e quindi che vive anche il Chiarese è contemperare quelli che sono i doveri delle famiglie con i diritti dei bambini i diritti dei bambini soprattutto poi rendiamoci conto stiamo parlando di bambini della scuola materna cioè non possono essere eliminati da una norma regolamentare cieca che se poi applicata cioè qui sembra quasi che ci vogliate dire ah ma non vi preoccupate questo è uno spauracchio è un deterrente infatti vedete dal 18% siamo già arrivati al 9% ma prima o poi se viene applicato anche solo su un caso allora io ve lo chiedo a tutti voi e lo chiedo alle vostre coscienze ai vostri cuori ma voi davvero vi sentite anche solo per un caso ad un bambino o ad una bambina di 4 anni di non farla mangiare nella mensa con i propri compagni perché la famiglia chissà poi per quale motivo giusto sbagliato colpevole o incolpevole ha superato i 200 euro dimorosità ma voi pensate che una bambina un bambino di 4 anni riesca a capire che il motivo è che i propri genitori hanno mancato i propri doveri allora io dico se voi volete arrivare su questi livelli ragioniamo su un altro piano perché se anche solo un cittadino chierese un bambino chierese una bambina chierese sono costretti a passare da questo gioco allora facciamo una cosa più facile più semplice che ci risolve pure un sacco di problemi di bilancio lo dico provocatoriamente togliamo le mense ognuno si porta il cestino da casa così siamo tutti uguali tutti uguali e non ci sarà mai discriminazione ma se voi introducete un elemento di tale discriminazione anche solo teorica è veramente una cosa evito l'aggettivo se vogliamo fare le cose provocatorie allora aumentiamo di qualche aliquota l'IMU pagano tutti i cittadini pagano anche per coloro i quali non sono disposti a pagare per coprire il buco per coprire il buco andiamo a pagare tutti quanti per così saldiamo quelli che non pagheranno l'assessore ha appena detto che il fenomeno non è fuori controllo cioè voglio dire stiamo parlando non stiamo parlando di di una situazione stiamo parlando di una situazione contingente di crisi dove quello che dovrebbe spingerci è la politica è una politica di pari opportunità tutta l'Europa sta investendo su politiche per i bambini da 0 a 8 anni vogliono cambiare il welfare allora vogliamo vogliamo ragionare di costi o vogliamo ragionare di investimenti questo è il concetto non stiamo stiamo parlando di di altro stiamo parlando di questo bigliano a me era perso di precisare che ci sono quei famosi 30 giorni cioè non è che il gli uffici burocraticamente e senza cuore mandano un messaggio e intimano non intimano avvisano ci sono 30 giorni in quei 30 giorni hanno soltanto da presentarsi agli uffici palesare i loro problemi e certamente saremo lì a risolverli quello che c'è tutta questa vostra diciamo preoccupazione non mi risulta sia stata palesata dai genitori che fanno parte del cogen vi ho detto si sono raccomandati che ci sia una maggiore collaborazione per dare una maggiore informazione hanno detto che molto probabilmente ci può essere da parte di qualcuno ma di quei pochi che sono effettivamente in difficoltà una certa ritrosia a palesarsi purtuttavia intendo dire se uno è in difficoltà non deve mica vergognarsi no? a questo mondo tanto più in questo momento da parte dell'amministrazione non c'è nessuna volontà di assumere atteggiamenti persecutori trovo abbastanza discutibile che il comune anziché attendersi che siano i genitori a palesarsi debba mettere su un ufficio per il quale non avremmo neanche molto probabilmente personale adeguato sia in termini numerici che di formazione che si attivi per gli opportuni monitoraggi per mettere in pista meccanismi di richiamo sistematico delle famiglie con l'approfondimento delle motivazioni dico qui e tra un po' dobbiamo mettere un ufficio di psicologi per capire perché la gente non paga come mi suggeriscono i colleghi diciamo che ci arrendiamo al fatto che proprio non viene capito il principio che sosteniamo rispetto a quello che sostenete voi bagna io mentre che parliamo anche di questo argomento farei ancora un ulteriore passo così di diciamo di osservazione del problema e che era già successo tempi indietro anche con la scorsa amministrazione era proprio il fatto di monitorare questo discorso dello spreco invece della mensa e di questo mangiare che invece si butta via certamente si può dire i genitori ce lo confermano che comunque la qualità di questa mensa attuale è peggiorata rispetto a prima e poi io vedrei per il futuro anche una possibilità di avere anche in questo settore una certa flessibilità in tutti i settori dalle imprese su di giù si parla tutto di flessibilità ma però invece abbiamo un sistema rigido e direi che si potrebbe così indirizzare il discorso il genitore che si paga la mensa che vuole portare il bambino alla mensa il genitore che dice io voglio fare parte della mensa quindi dare il pasto al mio bambino per una parte di questo pranzo e quindi ad esempio alcune volte si sente delle mensa che danno solo il primo e il bambino in base a come mangia in base alle sue abitudini in base anche all'educazione che i genitori danno al proprio figlio e ragione a chi sostiene che comunque bisogna anche educare i genitori quindi dare un proprio input al proprio bambino e il genitore che dice no mio figlio mangia poco abituato a mangiare così do il pranzo a sacco e quindi tutta questa sfaccettatura si dà la possibilità alla famiglia di tenere comunque e incareggiata al bambino altri interventi dichiarazione di voto sull'emendamento non ci sono dichiarazioni di voto prenotarsi per la votazione dell'emendamento prenotarsi è aperta la votazione la votazione sull'emendamento votare 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 chiusa la votazione non fanno in esito della votazione presenti votanti 28 allora favorevoli 12 burgarello bagna olia civera biglia maspoli benedicenti cucci marinari dario fasano forgioele foglio contrari 16 vasino emma fasano rappazzo da magnone stellato mercurio triolo passarello rubato arduino ronco caivano sidere bozzalla grosso castella l'emendamento non viene accolto prenotarsi adesso c'è dichiarazione di voto sul punto deliberativo così che non è stato emendato nessuna dichiarazione di voto allora prenotarsi per la votazione del punto aperta la votazione si vota adesso il punto all'ordine del giorno votare votare votazione chiusa esito esito della votazione votanti 28 favorevoli 17 vasino emma fasano rappazzo da magnone stellato bulgarello mercurio triolo passarello rubatto arduino ronco caivano sidere bozzalla grosso castella lancione contrari contrari 11 bagna olieci vera biglia mascoli benedicenti cucci marinare dario fasano forgio ele foglio il punto è passato andiamo al punto successivo numero 11 regolamento comunale per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani e della maggiorazione per servizi indivisibili la parola all'assessore vigliani sì il primo gennaio di quest'anno è entrata in vigore anche qui chiedo scusa vigliani chiedo scusa anche qui c'è un emendamento no 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 qui non c'è emendamento parla pure vigliani vai avanti dal primo gennaio di quest'anno è entrata in vigore la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la tares quindi si è reso necessario disporre questo regolamento che è costituito da due titoli il primo sulla tariffa il secondo sulla maggiorazione per servizi indivisibili chieri era diciamo in regime di tia quindi in questo caso si continua a mantenere il meccanismo con la tariffa corrispettivo quindi non è un tributo ma è una tariffa corrispettivo direi che gli aspetti da sottolineare sono del regolamento l'articolo l'articolo 13 e 14 relativi alle riduzioni tariffarie le quali di legge sono finanziate dalla tariffa e sono quelle che introducono il 35% di riduzione limitatamente alla quota variabile per utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica mentre sull'articolo 14 relativo agevolazioni contributi esenzioni sulla tariffa che sono precisate nell'allegato 3 e che sono leggermente modificate rispetto a quelle che c'erano nel passato regime e queste sono finanziate dal comune con risorse a bilancio in particolare sull'allegato 3 l'articolo 1 parla di agevolazioni e riduzioni tariffarie che sono parzialmente state rivisitate e all'articolo 2 quello dei contributi che sono stati invece confermati per quanto riguarda diciamo il meccanismo di calcolo vale il precedente quindi sono le superfici che già precedentemente venivano utilizzate in quanto dichiarate dai cittadini per la determinazione della della TIA in attesa che il catasto si adegui e riporti quelle che sono le superfici e quindi in questo caso poi si passerebbe all'ottanta per cento delle superfici catastali per quanto riguarda l'introduzione del titolo secondo quindi quello relativo alla maggiorazione per servizi indivisibili sono quelli che costituiscono un concorso è di nuova istituzione un concorso al finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune polizia locale ufficio tecnico anagrafe eccetera eccetera il meccanismo di calcolo comunque è sempre quello in base alle superfici che valgono per la tariffa corrispettiva e questo è un tributo comunale nel bilancio comune si paga esattamente come l'IVA con F24 o in banca o in posta serventi dichiarazione di voto dichiarazione di voto ci verrà ma il nostro gruppo vota a favore della delibera però volevo personalmente coglierò in questa occasione per annoiarvi un po' facendo alcune considerazioni sulla situazione di questo specifico problema tra l'altro potrebbe anche darsi che questa delibera poi si riveli inutile perché da alcuni giorni circola in modo insistente ma credibile la voce che la voce la notizia riportata già da diversi giornali tra cui solo 24 ore quindi che sono inate iniziative parlamentari dei neoparlamentari appena insediati per rinviare la TARES l'introduzione della TARES al 2014 e quindi questo costringerebbe ovviamente poi a ritornare a regolamentare la materia la TARES come tributo non è stata una bella idea del governo del governo Monti e non è stata una bella idea perché per più motivi ma il principale dal mio punto di vista è la confusione che ha creato perché il cittadino medio non percepisce che la TARES è ex tariffa rifiuti più tariffa per servizi indivisibili che peraltro non arriva al comune all'ente locale ma va in gran parte salvo maggiorazioni allo Stato dice questo è il costo del servizio rifiuti cioè non fa tanta distinzione e guardate neanche comunicativamente non è nemmeno facile spiegarglielo morale cosa succederà succederà ovviamente subito l'effetto rivolta l'effetto protesta dicendo ma quanto costa questo servizio di gestione dei rifiuti perché mediamente credo che per famiglia costerà 40-50 euro in più se consideriamo anche i servizi indivisibili mediamente quindi è assolutamente negativo ed assolutamente dannoso anche dal punto di vista della risposta del cittadino al servizio e anche rispetto a questo servizio qui tutto sommato rispetto al tema della tares il consorzio Chierese che ha elaborato il regolamento tipo da far approvare nei comuni che hanno la tariffa puntuale cade abbastanza in piedi in altri comuni in molti altri comuni non sarà così avranno proprio problemi enormi nell'emissione delle bollette perché gli manca anche in certi casi la base completamente la base di calcolo cade in piedi il consorzio Chierese ma questo scusate se lo faccio ma è anche la conseguenza di scelte che sono state fatte dieci anni fa sono state fatte con molto coraggio ma forse anche inconscienza nel momento in cui sono state prese ma che in questo momento portano ad una stabilizzazione del sistema che in altri territori invece non c'è anzi in altri territori c'è una deriva del sistema che rischia di essere anche molto molto pericolosa quindi questo territorio sta meglio degli altri sta meglio degli altri per le scelte fatte sta meglio degli altri perché ha una raccolta differenziata del 70% anche qui mi si permetta grazie alle scelte fatte nel 2009 con il nuovo appalto che in allora e io lo devo ricordare perché mi era stato rinfacciato e un po' l'ho anche patito fu tanto criticato da questa nuova amministrazione dall'allora assessore all'ambiente invece a distanza di alcuni anni ha rivelato invece c'è la sua bontà e comunque insomma io devo dire che in questo caso quando si va in giro si sente sempre il citare Chiarese come modello ed esempio da tutti gli orientamenti politici in tutti i territori quindi un po' di orgoglio credo che bisogna anche portarselo a casa sì però questa è una cosa che è un po' all'attere del regolamento ho visto sul Corriere di sabato di venerdì scorso l'ennesima polemica sul ricorsi che sarebbero stati intentati da alcuni cittadini del Comune di Chieri o del Chierese contro l'applicazione dell'IVA sulla TIA al Consorzio Chierese allora io credo che in questa occasione visto che siamo in Consiglio Comunale il Consiglio Comunale di Chieri dovrebbe anche avere il coraggio di difendere il proprio Consorzio questo Consorzio e le scelte fatte nel passato ma anche nel presente perché questa operazione di attacco frontale se passa davanti a un giudice di pace poi ovviamente io devo dire che personalmente non mi fermerò qui ma andrò a fondo della questione è un effetto devastante e mi chiedo a chi giova ma me lo chiedo e vorrei che ve lo chiedeste anche voi ma a chi giova forse è il caso che rompiamo un po' questo velo di omertà che in tutto questo tempo da quando si parla di ricorsi sull'IVA contro l'IVA sulla TIA ha coperto questa cosa vorrei che tutti fossero coscienti del fatto che non giova agli utenti che non giova al consumatore che non giova ai cittadini perché quando anche oggi recuperassero un pelino d'IVA domani si ritroveranno a pagare con gli interessi il buco che si crea tra l'altro per l'applicazione di norme che il consorzio chiarese ha applicato puntualmente tutto questo e chiudo tutto questo e chiudo e per dire ho colto l'occasione perché assumendomi anche le responsabilità so benissimo che un'uscita di questo tipo mi tira addosso probabilmente qualche qualche colpo ma l'ho fatto consapevolmente tutto questo per dire rendiamoci conto che su queste cose su questi principi bisognerebbe avere delle posizioni coraggiose siccome ti stimo ti perdono il chiedo scusa a Vigliani quando si va alla dichiarazione di voto non ci sono più interventi siamo alla dichiarazione di voto siamo alla dichiarazione di voto non era stata comunicata ci sono altri che vogliono fare dichiarazione di voto nessuno per cui metto in votazione il punto prenotarsi per la votazione è aperta la votazione votare votazione chiusa esito della votazione presenti 27 votanti 27 favorevoli 24 Vasino Emma Fasano Rappasso Tamagnone Stellato Bulgarello Mercurio Bagna Olia Civera Biglia Benedicenti Cucci Marinari Triolo Passarello Rubatto Arduino Ronco Caivano Sidere Bozzalla Grossa Castella Lancione astenuti 3 Dario Fasano Furgioele Foglio il punto viene approvato andiamo avanti sul punto numero 12 regolamento comunale per l'applicazione del canone di installazione dei mezzi pubblicitari e su questo punto c'è un emendamento quindi è presentato dal partito democratico è aperta la discussione e ci era solo una precisazione per l'errore di battitura sull'emendamento posso farla? Prego per un problema di battitura e anche di diotrie c'è stato un errore per cui nel secondo punto laddove si dice l'articolo 32,8 inserire un nuovo punto di almeno sette giorni eccetera eccetera i punti finali sono l'A il J il K e l'L invece mi è sfuggito una I non volevo riferirmi ai balconi volevo riferirmi ai partiti spero che si capisca insomma che non era no solo che abbiamo vengono proposte alcune modifiche al regolamento sui canoni mezzi pubblicitari occupazione suolo eccetera modifiche che riguardano punti diversi da quelli per i quali è oggetto l'emendamento perché non erano punti per i quali si proponevano modifiche erano già punti in essere precedentemente e con questo all'articolo 34 si voleva porre l'accento che quando si era ragionato di agevolare la tariffa per i Deor che fossero diciamo permanenti e non temporanei era una decisione volta a tentare di vitalizzare il centro e quindi un utilizzo 12 mesi su 12 quindi qua andiamo a introdurre il meccanismo per cui o ci si sottopone all'obbligo di mantenere la destinazione d'uso per l'effettivo periodo o in caso contrario c'è una forma di di sanzione che può essere anche soltanto quella di ricondurli alle tariffe temporane poi c'è quell'altra sulla richiesta con immediata comunicazione in caso di impedimento che è l'articolo 36 e poi soprattutto quella riferita al chioschi dell'acqua per i quali laddove il comune già usufruisca di un agio per quella funzione ovviamente riduce del 100% la tassa di occupazione e poi dopo c'è una ridefinizione migliore definizione degli spazi aree e siti in prima categoria l'elencazione delle vie l'emendamento in una qualche misura mi sembra che voglia affermare un primato rispetto al cittadino comune di certe categorie e non solo dei partiti quindi su quello ho qualche dubbio ma ovviamente il consiglio del sovrano posso parlare dell'emendamento adesso ma volevo volevamo solo presentare anche dire la motivazione che ci ha indotti e spinti a presentarlo ma dunque qui c'erano due aspetti come evidenziava già l'assessore Vigliani uno è che prevalentemente si interviene su norme che erano già preesistenti quindi però qui andando ad approvare il regolamento nel suo complesso abbiamo pensato che fosse il momento opportuno per proporlo e sostanzialmente ci siamo resi conto in questi due adesso non mi ricordo da quando è che è in vigore due anni tre anni questo regolamento sarà da 2010 credo dico bene sì insomma vabbè ma non è sostanziale in questi due anni cioè ci siamo resi conto che il il termine dei 15 giorni è molto limitante soprattutto laddove si vogliano organizzare iniziative senza fine di lucro per per finalità per finalità non lucrative in cui mettiamo dentro le associazioni la proloco tutte le associazioni legate agli istituti religiosi i partiti i sindacati e anche e anche le perché no le iniziative legate allo stato regioni e province cioè molto spesso 15 giorni sono un termine che è molto vincolante impedisce di di fare per questo tipo di iniziative che non hanno carattere economico che impedisce di di fare le iniziative oppure costringe a a presentare la domanda comunque per averne poi diritto e non e non trovarsi senza questa opportunità l'altra e quindi noi abbiamo pensato di proporre la riduzione a 7 anche perché questo limita effettivamente tutte le forme associative e partecipative anche spontanee dei cittadini l'altro aspetto è che nell'articolato nel combinato disposto in realtà non so se abbiamo capito avevamo capito male ma ci preoccupava invece l'effetto che avrebbe avuto la modifica questa una modifica quella dell'articolo 41 maggiorazioni perché c'era nell'articolo 41 c'era anche scritto qualora l'occupazione sia compresa tra quelle ridotte ai sensi del successivo articolo 42 in cui hanno comprese queste quattro categorie viene meno la riduzione stessa e questo nel caso nel caso si sia nelle occupazioni temporali temporali di cui l'articolo 36 comma 4 qui c'è sempre un continuo rimando adesso lo trovo allora le occupazioni temporali l'articolo 36 comma 4 l'occupazione temporale di durata non superiore ai 15 giorni la cui domanda perviene al comune oltre ai termini indicati nel precedente articolo 32 comma 8 lettera C ma comunque entro i 15 giorni antecedente l'inizio dell'occupazione stessa potrà essere rilasciata l'autorizzazione concessione previo pagamento di una maggiorazione cioè qui a noi è sembrato leggendo questo combinato disposto che alla fine rientrando in questa casistica anche le associazioni senza fine di lungo dovessero pagare è giusto allora quindi associazioni partiti politici associazioni religiose eccetera secondo noi questo sarebbe molto limitante limitativo delle delle iniziative che i cittadini sotto forma organizzata ma sempre senza fine di video vogliono prendere e quindi vorremmo evitare questo rischio che chi si organizza per fare una manifestazione promuovere una propria idea di qualunque idea esso sia debba pure essere costretto a pagare occupazioni pesanti ma semplicemente poi tutto è fattibile perché ovviamente gli uffici dove necessario si organizzano però i sette giorni tenendo conto dei tempi del protocollo dei tempi di istruttoria sopra luoghi dei vigili urbani eccetera eccetera sono effettivamente molto risicati io dubito che associazioni eccetera quando debbono organizzare un qualche evento lo programmino in tempi così ristretti dopodiché poi se ci fosse anche una qualche modificazione dei programmi nel momento in cui loro facessero la domanda nei 15 giorni che il regolamento prevede e almeno si peritassero così come sempre il regolamento prevede nel caso in cui per sopravenuti motivi decidessero di non voler o poter occupare lo spazio che hanno bloccato è sufficiente che lo comunicano con 5 giorni di anticipo e il problema non sussiste ad oggi è successo che molte volte proprio perché è gratuito fisso l'occupazione non mi perito di dire che non la occupo e quindi qualche associazione a cui magari è stato detto no lo spazio è occupato si lamenta perché poi lo trova effettivamente libero infatti questo è il meccanismo che volevamo cercare di sconfiggere con un tempo più breve perché se io come soprattutto funziona io credo per l'esercizio di potestà democratiche cioè se c'è un evento di tipo politico non è che 15 giorni dopo do il volantino o faccio una raccolta firme eccetera devo farla diciamo più o meno in corrispondenza allora per evitare questa cosa qui si prenotano per tempi lunghi gli spazi se invece il tempo fosse più breve secondo me uno non avrebbe bisogno di prenotarli in anticipo poi con rischio magari anche di non utilizzarli per cui l'emendamento è proprio per evitare il problema che l'assessore sottolineava altrimenti altri interventi cosa Tavagnone scusa Riccardo forse non ero ben attento l'ultimo passaggio dell'assessore ha precisato che questi spazi sono gratuiti e l'ultima parte del tuo intervento tu invece palesavi sostenevi qualche difficoltà a recepire il fattore gratuito o sbaglio questa cosa mi rende un po' confuso non ho capito bene e poi sarebbe interessante capire adesso forse Olia è stata molto più esplicativa ma tu dicevi che qualcuno è rimasto fuori perché sono troppo 15 giorni tu hai degli esempi di qualcuno che è rimasto fuori perché ci sono questi 15 giorni anche perché se i tempi sono brevi e magari servissero delle attrezzature cose di questo genere e il tempo di 7 giorni per prenotarle potrebbe essere troppo breve perché rischi magari di chiedere delle attrezzature che non ci sono più pur essendo tra i beni tra il patrimonio del comune però sarebbe interessante capire perché così come io onestamente non ho capito le problematiche se sono quelle dell'assessore per cui uno prenota e poi viene meno l'obiettivo per cui si dimenticano di disdire ok è un disagio che dovrebbe lamentare il comune quindi non chi ha fatto la domanda perché casomai è il comune che ne soffre di questa situazione peggio invece sarebbe se i 15 giorni fossero così lunghi da non consentire a qualcuno di esercitare la possibilità di effettuare l'evento però rispetto a tutto ciò veramente ho bisogno di un chiarimento ci verrà ma dunque i punti effettivamente sono due uno è il tema pagare pagamento allora io ho capito che si paga nel caso in un caso particolare vale a dire quando 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 aspettate che ve lo rileggo il meccanismo è semplice il regolamento già oggi prevede la possibilità che si faccia la richiesta in tempi inferiori ai 15 giorni in quel caso scatta il pagamento volevo solo sottolineare questa è un'introduzione di questa modifica che prima non c'era questa è la prima osservazione la seconda osservazione quella che chiedevi tu adesso può anche darsi che noi abbiamo allargato troppo la platea di quelli a cui noi daremo questo diritto di ridurre a sette giorni il termine per la richiesta però ecco però alla fine qui stiamo parlando principalmente di iniziative che hanno bisogno al limite di un gazebo e di un tavolino e di una sedia perché stiamo parlando di occupazione di suolo pubblico quindi non c'è il problema delle attrezzature non è questo il tema il tema è solo che se un'associazione di cittadini vuole fare una raccolta firme in sotto l'arco in piazza Vittorio in piazza della Meridiano in piazza Dante deve fare domanda 15 giorni prima e infatti noi abbiamo proposto sette giorni ecco anche perché ah perché l'ho allargato la proloco no 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 ma non volevo tagliare fuori tutti quelli che non erano no ma l'intenzione in realtà è stata ragionata così non tagliamo fuori nessuno di quelli che fanno in città delle iniziative senza fine di lucro solo quello no cioè chi lo fa commercialmente è un altro tema paga quello che deve pagare non vedo altri interventi dichiarazione di voto sull'emendamento nemmeno quello e metto in votazione l'emendamento prenotarsi prenotarsi è aperta la votazione si vota l'emendamento votare votazione chiusa l'emendamento si vota l'emendamento non vedo altri interventi non vedo altri interventi per noi Grazie. Esito della votazione, votanti 28, favorevoli 9, Bagna, Olie, Civera, Biglia, Maspoli, Marinari e Dario Fasano, Forgiorele Foglio. Contrari, 17, Vasino e Mafasano, Rappasso, Tamagnone, Stellato, Burcarello, Mercurio, Triolo, Passarello, Rubatto, Arduino, Ronco, Caivano, Sideri, Bozzalla, Grossa, Castella, Lancione, Astenuti, 2, Benedicenti, Cucci. L'emendamento non passa. Prenotarsi per la votazione del punto numero 12. Aperta la votazione. Votare. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 27, favorevoli 20, Vasino e Mafasano, Rappasso, Tamagnone, Stellato, Burcarello, Mercurio, Olie, Benedicenti, Cucci, Triolo, Passarello, Rubatto, Arduino, Ronco, Caivano, Sideri, Bozzalla, Grossa, Castella, Lancione. Contrari 7, Civera, Biglia, Mashpoli, Marinari, Dario Fasano, Furgiorele, Foglio. Il punto viene approvato. Punto successivo numero 13. Regolamento per la determinazione della variazione dell'aliquota e dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IPEF. Modifica. Chiesto la parola a Viviani. Come già definito con le linee guida al bilancio di previsione, sostanzialmente si modifica il regolamento specifico dell'addizionale IRPEF. precisando all'articolo 3 che l'aliquota di compartecipazione è stabilita nella misura dello 0,75 e introducendo un articolo 3 bis che prevede appunto l'introduzione di una soglia di esenzione fissata ad euro 7.500 con la precisazione che per redditi superiori a questo limite l'addizionale viene applicata sull'intero reddito imponibile, cioè i 7.500 non sono una franchigia per tutti. interventi. Buongiorno. Io penso che la maggioranza, con la testa del sindaco Rancione, dovrebbe un po' portare a fine e quindi smettere di mettere le mani continuamente in tasca dei chieresi per recuperare tutti i costi del denaro. Se vuole maggiore entrate si deve diminuire, ad esempio, i costi per gli incarichi professionali. Le somme previste appaiono francamente sproporzionati per l'economia chierese. Riguardante l'innalzamento dell'addizionale IRPEF, sono evidenti le pezze che il Comune intende apporre sulla situazione disastrosa dell'ente e per farlo, ancora una volta, mettere le mani nelle tasche dei contribuenti già esageratamente tartassati da imposte tra le più alti d'Italia. Ciò che Chierifutura propone per sanare le casse del Comune senza pensare ulteriormente sulle famiglie interessa a qualcuno oppure... Ciò che Chierifutura propone per sanare le casse del Comune senza pensare ulteriormente sulle famiglie è ridurre le spese infutili, reperire le risorse che verranno a mancare attraverso il contrasto dell'evasione fiscale e ulteriore razionalizzazione e risparmi di spesa, ma mai e in nessun modo ridurre i servizi al cittadino attualmente erogati. Per questo, Presidente, faccio anche la dichiarazione di voto questa volta, per questo il mio voto sarà contrario. Altro intervento? Dichiarazione di voto? Metto in votazione il punto d'ordine del giorno a prenotarsi. È aperta la votazione. Votare. Chiuso la votazione. Chiuso la votazione. Esito della votazione. votanti 27, favorevoli 16, Vasino, Emma, Fasano, Rappasso, Tamagnone, Stellato, Burcarello, Mercurio, Triolo, Passarello, Rubatto, Ronco, Caivano, Sideri, Bozzalla, Grossa, Castella, Lancione. Contrari 9, Bagna, Olie, Civera, Biglia, Maspoli, Marinari, Dario Fasano, Furgiole, Foglio, Astenuti 2, Benedicenti, Cucci. Il punto è approvato. Punto successivo numero 14, regolamento per la gestione dell'imposta municipale modifica. La parola è un adeguamento del regolamento a quelle che sono le nuove disposizioni legislative. Quindi sostanzialmente si prende atto che la quota IMU per fabbricati produttivi classe D, categoria D e quelli fabbricati agricoli, il versamento è tutto a favore dello Stato, mentre negli altri casi il versamento è tutto a favore del Comune. Dopodiché introduciamo anche l'articolo in cui il Comune si riserva la possibilità di ridurre l'aliquota dei fabbricati ad uso gratuito. Interventi? Dichiarazione di voto. Metto in votazione il punto, prenotarsi. Aperta la votazione. Votare. Votazione chiusa. Stiamo votando il punto numero 14. IMU. Regolamento. Esito della votazione. presenti 26. Favorevoli. 18. Vasino e Maffasano. Rappazzo, Tamagnone, Stellato, Bulgarello, Mercurio, Benedicenti, Cucce, Triolo, Passarello, Rubato, Ronco, Caivano, Sideri, Bolzalla, Grossa, Castella, Lancione. Contrari. 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 Bagna, Civera, Biglia, Mashpoli, Marinare, Dario Fasano, Curgiuele, Foglio. Punto. Approvato. Punto successivo. numero 15. Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dare se maggiorazione a copertura dei costi relativa ai servizi indivisibili del Comune. La parola a Vigliani. Con questa delibera si propone di deliberare che una maggiorazione di euro 0,40 per metro quadrato per tutto il territorio comunale e per tutte le tipologie di immobili a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune. Giuseppe. Sì. Considero che ci sia un allargamento delle superfici imponibili deciso dallo Stato e non dai Comuni, sarà richiesto un contributo di 30 centesimi a metro quadrato in più che andrà direttamente alla Cassa dello Stato. Mentre i 10 poi al Comune e non dei Comuni. E i Comuni dovranno coprire al 100% i costi dei servizi di gestione dei rifiuti, con il risultato che a pagare saranno i cittadini. Non possiamo apparire agli occhi dei cittadini degli esattori di tasse imposte che, oltretutto, molto spesso neppure finiscono le casse del Comune. Chi del futuro è assolutamente in linea con coloro che, ritenendo che la tares nella versione del Governo Monti, è un bersello inutile, iniquo e inopportuno, sosterranno la sua definitiva cancellazione. Noi faremo la nostra parte sin d'ora. Ci collochiamo al fianco di quante, credendo in questa battaglia di equità, si attiveranno per ottenerne, se non la definitiva cancellazione, almeno una sostanziale modifica nell'interesse delle famiglie e del tessuto produttivo da sempre, ed ora più che mai, colonna portante del nostro Paese. Allora, io non posso... Presidente, io non riesco a... Consentitemi... Grazie. Una rapida con le storie. L'iniziale stesura prevedeva il pagamento della prima quota della tares nel mese di gennaio. Il 18 dicembre 2012 il Consiglio dei Ministri l'inviava ad aprile 2013 quella detta quota. Il 22 gennaio il Governo ha ulteriormente prorogato a luglio il pagamento della prima tares, quindi 180 giorni dopo la scadenza originale. Si ricorda inoltre che i comuni hanno comunque la facoltà di postecipare ulteriormente tale pagamento. In conclusione, primo, la tares potrebbe essere cancellata dal nuovo Governo. Seconda ipotesi, la tares potrebbe essere modificata dal nuovo Governo. Terzo, i comuni hanno un lasso di tempo ampiamente sufficiente qualora cancellazione o modifica non si concretizzassero per predisporre un'applicazione della tassa secondo i principi di equità. Stava guardando nei limiti del possibile le famiglie e le attività produttive, quindi per le questioni di merito precedentemente evidenziate, invito i colleghi consiglieri della maggioranza e i colleghi della minoranza a respingere questo punto dell'ordine del giorno. Non vedo altri interventi. Dichiarazione di voto. Non c'è dichiarazione di voto. Metto in votazione il punto dell'ordine del giorno. Prenotarsi. Aperta la votazione. Votare. Votazione chiusa. Esito della votazione. Esito della votazione. Esito della votazione. Presenti 28, favorevoli 17, Vasino, Fasano, Rappasso, Damagnone, Stellato, Burgarello, Mercurio, Triolo, Passarello, Rubatto, Arduino, Ronco, Caivano, Sideri, Bossalacrosso, Castella, Lancione. Contrari 9, Bagnaulia, Civera, Biglia, Maspoli, Marinare, Dario, Fasano, Furgioele, Foglio. Astenuti 2, Benedicenti, Cucci. Prenotarsi per la immediata eseguibilità. E' aperta la votazione. E' aperta la votazione. Votare. Chiusa la votazione. Esito della votazione. Votanti 25, favorevoli 20, Vasino, Fasano, Rappasso, Damagnone, Stellato, Burgarello, Mercurio, Olia, Biglia, Furgioele, Triolo, Passarello, Rubatto, Arduino, Ronco, Poglio, Sideri, Bossalacrosso, Castella, Lancione. Contrari 3, Bagna, Maspoli, Marinari. Non ha votato Benedicenti e Cucci. E' il punto. Dichiarata immediatamente eseguibile. Non hanno votato per distrazione, non lo so. Andiamo avanti al punto numero 16. Imposta municipale, approvazione, aliquote, anno 2013. Con questa delibera vengono confermate le aliquote dell'imposta municipale propria, ad eccezione di quella per le abitazioni concesse in uso gratuito. che da 0,90 all'iquota precedente passano a 0,76, ovviamente viene precisato che per gli immobili di categoria Catastale D, ad eccezione di 10 e di 5, lo 0,76 è tutta quota riservata allo Stato, così come per l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, lo 0,10 è tutto allo Stato. Per gli immobili di categoria Catastale D, che per intenderci sono banche, assicurazioni, eccetera, la quota viene confermata a 0,90, di cui 0,76 riservata allo Stato, 0,14 riservata al Comune. Tutte le altre aliquote sono interamente riservate al Comune, con quel meccanismo poi che avevamo già spiegato a livello di linee guida di bilancio, della quota che deve essere poi versata per il Fondo di Solidarietà. Interventi? Non ci sono interventi, dichiarazione di voto, per dichiarazione di voto? No, perché? No, interventi non ce n'erano, ho detto dichiarazione di voto, tutti i prenoti, mi fai la dichiarazione di voto. Se tu guardo un attimo, su un mondo... Furtuella, se qui facciamo come dici tu, non lo so, io dico che ci sono interventi, non ce ne sono. Dico, dichiarazione di voto, tutti i prenoti, e mi fai la dichiarazione di voto, fai intervento e in contemporanea mi fai dichiarazione di voto. Allora, dimmi te cosa devo fare. Fai intervento con dichiarazione di voto. Grazie. Prego. L'obiettivo del Movimento Chiede Futura sarebbe quello di vedere, di mezzare, quel 4 per mille che era il quota dell'Imo oggi, per portare al minimo del 2 per mille. Questo, basandoci ovviamente sulle leggi in vigore, ma speriamo ancora di qui a giugno, quando il bilancio andrà approvato, che le forze politiche, spremendo un nuovo governo, visto che un po' tutte si sono dichiarate su questa linea di ridurre la pressione fiscale sui cittadini, possa consentire anche interventi più decisivi. Per parte nostra, siamo sicuri che con questa decisione potremmo già far respirare molte famiglie. Per questo chiedo che venga abbassato da 4 per mille a 2 per mille per le prime case. Grazie. Oria. Volevo argomentare solo un secondo perché votiamo contrario a questa delibera, perché pur apprezzando lo sforzo relativo alle famiglie che affittano l'articolazione diversa della tariffa per quello che riguarda l'affitto a familiari. Ci siamo confrontati anche con altre realtà intorno e abbiamo visto che in realtà potevano essere adottate delle graduazioni anche un po' diverse, soprattutto nel caso di anziani che vivono in case grandi e un altro emendamento che è stato adottato in altri contesti e anche quello di ridurre l'imu o applicare una riduzione per chi gestisce a domicilio anziani non autosufficienti con supporto di personale, ovviamente o di familiari o di personale in regola. In quel caso un cittadino che svolge un servizio che potrebbe essere a carico della collettività potrebbe avere un vantaggio anche dal punto di vista dell'imu. Quindi non essendoci articolazioni, probabilmente avremmo potuto gestire in un modo con articolazioni più interessanti e quindi votiamo contro. Altre dichiarazioni di voto? Metto in votazione il punto dell'ordine del giorno, prenotarsi. Aperta la votazione. Votare. Chiuso la votazione. Esito della votazione. Votanti 25. favorevole 18. Vassino, Emma, Fasano, Rappasso, Tamagnone, Stellato, Mercurio, Benedicenti, Cucci, Triolo, Passarello, Rubatto, Arduino, Ronco, Caivano, Sideri, Bozzalla, Grossa, Castello, Lagioni. Votazione, Contrari, Sette, Olie, Civera, Biglio e Maspoli, Marinari, Furgiuele, Foglio. Per l'immediata eseguibilità, prenotarsi per la votazione. Aperta la votazione. Votare. Votazione chiusa. presenti 24, favorevoli 22, Vasino, Emma, Fasano, Rappasso, Tamagnone, Stellato, Mercurio, Olia, Biglia, Benedicenti, Cucci, Furgiuele, Triolo, Passarello, Rubatto, Arduino, Ronco, Caivano, Foglio, Sideri, Bozzalla, Grosso, Castello, Lagione. Contrari, Maspoli, Marinari. La delibera è immediatamente eseguibile. Punto successivo. Numero 17. Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Anni 2013-2015. La parola a Viglia. Il piano delle alienazioni è quello ormai enunciato più volte anche in occasione delle linee guida. Prevede l'alienazione degli edifici Palazzo di Verio, Via San Giorgio 19, la porzione di mobili San Filippo nel contesto del Piru, Palazzo di Via della Pace, Palazzo Pesso, Piazza Mazzini e la Cascina Maddalene e le aree di Via Tana e Buozzi. Ovviamente tutte nel 2013 ad eccezione di Cascina Maddalene e Rabuozzi che sono riferite al 2014. qui Via Tana nella realtà sapete che l'alienazione è già è già stata attuata, deve essere perfezionata e quindi niente di particolare. non ci sono interventi dichiarazione di voto non ci sono dichiarazioni ci vera ma come abbiamo già ci siamo già espressi in merito parlando nell'ambito della discussione sulle linee guida del bilancio quindi evitiamo di essere troppo ripetitivi ma noi votiamo contro quella serie di motivazioni che avevamo già esposto che brevemente ricordo intanto perché in una fase di questo tipo alienazioni troppo concentrate su un unico esercizio finanziario non hanno come unico effetto quello di deprimerne il valore infatti io devo dire che anche dal punto di vista tecnico mi chiedo perché continuare a metterle tutte sul 2013 tanto non è realistico che vengano vendute che tutto venga venduto nel 2013 non posso credere non ci riesco con tutto l'ottimismo della volontà che posso avere non posso pensare che Palazzo di Verio via San Giorgio via della Pace Palazzo Pesso Palazzo di Piazza Mazzini se riesco a venderle nel 2013 allora mi chiedo perché metterle perché inserirle perché creare fittiziamente anche l'immagine di un comune che vuole vendere a tutti i costi e quindi anche nei potenziali acquirenti l'idea che tanto basta fare andare deserto un colpo perché magari tanto così al colpo successivo si abbassano i prezzi quindi questo è già un elemento che ci lascia parecchio perplesso poi il tema dell'area di Via Tana è già stato dibattuto noi abbiamo già espresso chiaramente la nostra posizione al momento è andata come è andata poi si vedrà come finisce però davvero facciamo un po' fatica a cogliere una strategia complessiva che non sia quello di far quadrare dei numeri sulla carta allora non ci sono altri interventi metto in votazione il punto prenotarsi aperta la votazione votare votazione è chiusa esito della votazione esito della votazione votanti presento la votazione 26 favorevoli 18 Vassino e Maffasano Rappasso Tavagnone Stellato Mercurio Benedicenti Cuccio Furgio Triolo Passarello Rubatto Ronco Caivano Sidere Bossalla Grosso Castella Lagione contrari 7 Bagna Olia Civera Biglia Maspoli Marinari Foglio astenuto non ha votato Arduino il punto è approvato chiedo scusa Borgio ha chiesto di parlare volevo soltanto fare un chiarimento erroneamento votato sì invece volevo votare il contrario chiedo che venga messa verbale punto successivo verifica quantità qualità e determinazione del prezzo di gestione aggiusto chiedo scusa c'è l'immediata eseguibilità prenotasse per la votazione aperta la votazione votare votazione chiusa mezzanotte mezzanotte esito della votazione votanti 24 favorevoli 20 favorevoli 20 Svasino Emma Fasano Rappazzo Tamagnone Stellato Mercurio Olia Benedicenti Cucitriolo Passarello Rubatto Arduino Rongo Caivano Foglio Sideri Bolzalla Grosso Castello Lagiore Contrari 4 Biglia Maspoli Marinari Furgio c'è l'immediata eseguibilità punto 18 la verifica quantità qualità determinazione del prezzo di gestione delle aree a destinazione alla residenza ai sensi delle leggi eccetera eccetera la parola sì buonasera a tutti a Cravero prego grazie grazie presidente niente su questo punto diciamo che annualmente l'amministrazione individua nell'ambito del piano regolatore le aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica queste aree sono equiparate a quelle di edilizia economica e popolare dato che mancano di fatto i finanziamenti regionali inerenti le nuove costruzioni di fabbricati su aree di edilizia popolare diciamo che di fatto non abbiamo individuato aree e risorse da destinare a tali interventi quindi la proposta di delibera nella sostanza è quella di non destinare aree per questo tipo di iniziativa per l'anno 2013 negli altri anni non individuavamo sempre un'area e rimane quella lì oppure quest'anno non la di fatto l'individuazione è su base annuale quindi ogni anno bisognerebbe individuare l'area e le eventuali risorse perché tu potresti anche acquisirla di fatto non essendoci più da parte della regione la disponibilità di fondi per incentivare questo tipo di intervento non riteniamo ci sia ragione di individuare aree che peraltro erano sostanzialmente due la CR29 e la CR30 e si giocava su queste due aree quindi alla fine non avevamo altro no vabbè ma il dubbio eh il dubbio era cioè se se ci fossero i finanziamenti regionali però il fatto che noi non abbiamo individuato l'area ci mette in una situazione in una situazione di difficoltà nel senso che mi sembra di capire di leggere sui giornali di vedere situazioni di emergenza abitativa piuttosto elevate penso che ci si possano possano esserci anche interventi di co-housing interventi cioè non sto pensando alle classiche edilizie residenziali pubblico ma io penso che il comune di Chieri dovrebbe eh dare una possibilità per poi poter prendere finanziamenti ci sono finanziamenti anche privati per esempio della compagnia di San Paolo per qualcosa che vada in quella direzione non dico di farla da oggi a domani però comunque l'idea eh altrimenti diventa difficile poi approfittare dell'occasione nel momento in cui nel momento in cui poi c'è viene fuori ci sono finanziamenti o cose di questo genere cioè di solito davvero avevo capito che fosse la solita reiterazione che facevamo tutti gli anni eh per non perdere la possibilità toglierla mi sembra mh scusa non viene tolta semplicemente quest'anno ne viene assegnata una nuova quindi ciò che c'è è utilizzabile la CR30 è assolutamente utilizzabile non ho altro intervento dichiarazione di voto non ci sono dichiarazione di voto aspetta dichiarazione di voto no no eh scusate dichiarazione di voto ci vera no 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 non è dichiarazione di voto ma io sto leggendo il deliberato io sto leggendo il deliberato no io non capisco le cose che ha detto l'assessore perché qui c'è scritto di dare atto che non si individuano aree da destinare alle residenze per l'anno 2013 cioè quindi che non ci sono manco più la CR30 la CR29 eh ma è qui però il letterale è questo che non esistono aree io poi per carità eh se dichiarazione di voto è un attimo per cortesia respiro un attimo con gioia respiro un attimo respiro allora volevo approfondire io questo problema qua cioè capire più che altro no allora c'è la possibilità eventualmente di un sito oppure non c'è perché non è stato destinato niente perché da una parte centro non esiste più l'assessore che dice no c'è quello che c'era precedentemente però sulla delibera non lo riporta allora vorrei capire se c'è o non c'è Furgiole questa non è la dichiarazione di voto chi ti ha detto che faccio la dichiarazione di voto sono feriti gli interventi si passa la dichiarazione di voto se vuoi modificare il consiglio comunale il regolamento viene nella conferenza di capogruppo e porta le modifiche non ho capito ci sono altre dichiarazioni di voto a dichiarazione di voto segretà per cortesia puoi intervenire porti pazienza un minimo di cose ci vuole Nicola non mi sembra che questo consiglio il comunale brilli per loquacità allora se per un cavolo di punto si vuole parlare ci vuoi lasciare parlare cioè abbiamo o volete terrazzare completamente annullare completamente qualsiasi tipo di discussione ma qualsiasi tipo volete che ci arrendiamo completamente al piattume per non dire altro e ci arrenderemo e sarete contenti vi prenderete la responsabilità di quello che state facendo io devo dire che siete veramente deboli perché non siete capaci neanche di ascoltare la vostra discussione interna in consiglio comunale non viene fuori non so se c'è da qualche altra parte una discussione tra di voi interna francamente non mi interessa ma non viene fuori allora almeno ci potete lasciare discutere un pochettino noi questa cosa qua non è chiara per te è chiara Nicola è chiaro quello che ha detto l'assessore a te è chiaro se non c'era se non c'era posso fare la domanda all'assessore se non c'era la possibilità di costruire qual è la differenza adesso tra identificare e non identificare non è che dopo domani poi su quel su quel terreno che era identificato prima ci andiamo a fare qualcos'altro ci fate un'altra alchimia allora visto che non c'era che problema c'era lo si rifaceva si riidentificava lo stesso posto aspettavamo tempi migliori cambierà il governo cambierà qualcosa in questo benedetto paese o no dov'è il problema perché era necessario non identificarlo più questo io non l'ho capito non so mi sembra che anche altri colleghi non l'abbiano capito e mi sembra che forse un pochettino quando almeno non capiamo si possa discutere presidente visto che la tua funzione presidente non dovrebbe essere quella di annullare la discussione dovrebbe essere quella di fare in modo che questo consiglio comunale possa esprimersi perché ha delle prerogative che mi sembra che non siano delle prerogative che in questo momento stiano brillando io mi sto addormentando il mio dito fa così il vostro dito fa così io vengo qui a fare così ok? Maspoli io mi devo attenere il regolamento mentre che se tu dici ci sono altri interventi chiedo scusa se io non vedo nessuna prenotazione devo andare avanti chi vuole parlare fare gli interventi anche fino a domani si prenota se io non vedo prenotazione devo andare avanti ma ve lo sto dicendo in tutti i consigli comunali di prenotarvi anche se poi rifiutate di parlare ma vi prenotate se io non vedo prenotazione vado avanti devo andare avanti ma come voi avete potuto notare precedentemente io dico ci sono altri interventi ci sono altri interventi non ci sono se non ci sono vado avanti for Gioele che c'è niente volevo chiedere come stava sto bene grazie ma io cioè volevo capire se capisco che l'ordine di scuderia da parte della maggioranza e dire ma andiamo via tutta approviamo chi c'è chi non c'è non c'è capisco che le beghe che avete all'interno della maggioranza non volete non volete però c'è un regolamento c'è un regolamento che un regolamento del consiglio comunale che va rispettato adesso io io penso che neanche lei signor Presidente sa di quale punto stiamo parlando e di cosa stiamo parlando perché io io la invito Gioele sei alla dichiarazione di voto la vuoi fare vuoi fare la dichiarazione di voto ci sono dichiarazioni di voto volia voglio essere chiarissima alla domanda se domani ci fosse un finanziamento regionale per un housing sociale noi città di Chieri sappiamo dove metterlo allora per l'anno 2013 no il che non significa che nel 2014 non si possa riproporla ok allora poco fa l'assessore ha detto c'è c'è quello dell'anno scorso dopo due minuti dice non c'è ci sarà nel 2014 ma lei assessore nel 2014 ci sarà no perché io a questo punto qua mi preoccupo perché perché noi dobbiamo approvare quest'anno non il 2014 quindi io invito se lei ha detto poc'anzi ha detto che c'è di modificare di ritirare il punto e riportarlo la prossima volta a me continua a non essere chiaro il motivo per cui non si poteva continuare a fare come negli anni scorsi aspettando tempi migliori in modo che comunque quelle aree rimanevano destinate ok visto che a meno che uno non abbia un'idea diversa di destinarle ad altro uso io questo non lo so ed è la domanda che mi piacerebbe fosse chiarita cioè la risposta che fosse data e quindi non capisco il motivo per cui dopo tre anni in cui abbiamo continuato a fare in un certo modo adesso invece facciamo diverso speriamo che cambi qualcosa giusto? tu lo spererai vorrai fare bene allora continuiamo a stare su quella posizione e poi quando arriveranno noi a meno che non abbiamo idea di destinare le aree ad altro uso ed è questa la domanda che c'è sotto perché se io cambio cambio perché avrò un'altra idea o no cambio così perché oggi non ci sono i soldi e domani se ci saranno vedremo e questa è la programmazione territoriale di questo territorio beh l'assessore ha detto appunto ma allora o chiarite l'esigenza che c'è però chiaritela in maniera come dire esplicita avete un'altra idea di questa cosa avete un'altra idea ditelo invece così dici adesso non ci sono i soldi non lo facciamo domani ci saranno i soldi lo facciamo e facciamo una programmazione ogni anno così diversa tanto qua poi facciamo una piccola variante avanti così no spiegamelo perché io non lo capisco benedicente ma provo a fare leggermente un po' di chiarezza se riesco senza pensare che ci sia che ci sia no io lo faccio come magari presidente della terza commissione in cui ne abbiamo parlato poi è stato se ne è parlato anche in prima perché questo implica anche dei soldi per cui viene parlato lì io intanto 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 potrei continuare visto che in terza commissione se ne è parlato non si è sollevato nessun problema in prima penso che si ne sia parlato c'è scritto che se ne è parlato per cui sicuramente gli ultimi 2-3 anni si sono sempre destinate queste aree nella CR29 e CR30 pur non avendo i finanziamenti adesso sì però per destinare le aree bisogna anche mettere a bilancio dei soldi perché se uno arrivasse con finanziamenti per le aree per cui devi avere questi soldi a disposizione per cui e penso sia questo il motivo per cui si è deciso di non destinarle più visto che negli ultimi anni non sono arrivate finanziamenti per poterli fare per cui è inutile impegnare le aree tanto sono lì nel momento non c'è altro perché per destinarle ad altro poi bisogna magari ci sia fare una variante o qualcosa per cui siamo già a marzo in questo momento qui la regione non ha finanziamenti da quel che ci ha detto in terza commissione di dirigenti quello dell'ufficio è inutile continuare a mantenere queste aree lì con questa destinazione impegnare dei soldi e bilancio per acquisire poi le aree quando avranno questi finanziamenti tanto vale non metterlo per il 2013 non metterlo dopodiché se arriva qualche finanziamento sicuramente si può fare ma addirittura si può fare con una variazione di bilancio una variante penso questo si possa fare in poche meno per cui per cui io penso in buona fede che non ci siano secondi fini o terzi fini o roba del genere abbiamo derogato da un po' quello che dice il regolamento eravamo passati alla dichiarazione di voto avete continuato a fare gli interventi non lo so non è corretto perché ogni volta si verificano questi inconvenienti non è giusto quando si passa la dichiarazione di voto si fa la dichiarazione di voto avete fatto sempre interventi lo stesso senza fare dichiarazione di voto io chiedo al dottor morra se è corretto fare così se no faccio venire il vicepresidente lo fa meglio di me ho sempre detto che quando uno deve intervenire si deve prenotare se io non vedo prenotazioni alcune volte ve l'ho detto prenotatevi ci sono interventi invece non vi prenotate poi volete parlare come furgio e dico dichiarazione di voto si prenota per l'intervento e invece dichiarazione di voto ecco sarà 20 minuti che ho detto dichiarazione di voto adesso facciamo gli interventi siamo alla dichiarazione di voto Civera tu fai dichiarazione di voto allora sono prenotato testimone tutta l'aula che sono prenotato a mezz'ora siamo alla dichiarazione di voto furgiovele no non è possibile furgiovele non intende parlare Civera vuoi parlare tu perché lui si riposa non intende parlare vedi che non vuole parlare allora per fortuna posso per fortuna che abbiamo il nostro medico qua e può darci qualche perché ne hai bisogno allora e appunto e volevo solo fare alcuna precisazione c'è il presidente della terza commissione che pecca di presunzione perché se le risposte alle varie interrogazioni le deve dare l'assessore in questa aula e non il presidente della terza commissione ricordo che è vero se ne è parlato in terza commissione ma le commissioni non sono deliberative è stato licenziato però si può parlare benissimo in consiglio comunale dopodiché 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 poi ci sono i gruppi i gruppetti quelli che funzionano per cortesia presidente per cortesia per cortesia voi per cortesia per cortesia per cortesia per cortesia furgione si ama la dichiarazione di voto e sei fuori fuori argomento fai la tua dichiarazione di voto se vuoi farla diversamente passo la parola faccio la dichiarazione di voto faccio la dichiarazione di voto fai la dichiarazione di voto il problema è che qualcuno sta parlando ed è fuori argomento fuori di quello che dovrebbe dire posso fare la dichiarazione di voto prego fai la dichiarazione di voto ecco allora a parte il fatto che per fare una dichiarazione di voto ci vuole anche meno maleducazione da parte di qualche consigliere perché non sa neanche come sta si sta in un consiglio comunale per quanto non si può non si può che votare contro perché è inammissibile è inammissibile è una dichiarazione è una dichiarazione di voto no o si dice sì o no qua è una dichiarazione di voto e allora sto facendo la dichiarazione di voto è inammissibile poter votare su un qualche cosa che l'assessore competente un attimo prima dice una cosa un attimo dopo dice un'altra quindi per quanto riguarda la mia persona voto c'era noi votiamo contro noi avevamo un foglietto c'era scritto favorevole su questa cosa per ricordarcelo ma nella discussione è venuto fuori un'assoluta non chiarezza sulla vicenda quindi noi non ci sentiamo di votare a favore e volevo solo precisare una cosa che comunque tutta questa giustificazione postuma di quello che è stato scritto nella delibera è poco convincente se non altro per un motivo lo dico anche per Carlo il bilancio della regione non è stato approvato che io sappia ne so quando verrà fatto quindi mi chiedo come si fa a essere sicuri che nel 2013 non ci saranno fondi poi un'ultima cosa prendila come battuta Nicola è chiaro che se tu incalzi in questo modo e non dai la possibilità a gente che oramai come siamo gran parte di qui dentro ha superato i 50 anni di collegare le sinapsi in tempo rapido allora noi adesso faremo come si fa per la prenotazione per l'occupazione di spazi pubblici cioè l'occupazione la prenotazione preventiva poi Bigliani ci metterà una multa perché ci farà la maggiorazione no? perché poi ci se non disdiciamo in tempo se non disdiciamo in tempo no scusa cerco anche un po' di svelenire però cerchiamo di usare un po' di e altre dichiarazioni di voto e Tamagnone noi voteremo a favore perché proprio dalle ultime parole del collega Riccardo Civera se la regione che tutti i giorni leggo che è sull'astrico riesce a trovare soldi per finanziare questa iniziativa io chiedo alla giunta a tutta la maggioranza nel consiglio immediatamente dopo di operare una variazione di bilancio affinché le attuali aree che sono a disposizione della CR29 e CR30 che sono adibite a questo scopo possono essere immediatamente utilizzati per questo noi votiamo a favore altra dichiarazione di voto allora metto in votazione il punto prenotarsi per la votazione aperto la votazione votare chiusa la votazione esito della votazione presenti 28 favorevoli favorevoli 20 favorevoli 20 vasino m fasano rappazzo tamagnone stellato burgarello mercurio olia benedicenti cucci triolo passarello rubatto arduino rongo caivano sideri bolzalla grossa castella lancione contrari 7 bagna civera biglia mars polimarinari furgio foglio astenuto fasano e punto pass ultimo punto all'ordine del giorno che possiamo discutere stasera è il numero 19 contributi derivanti da gli oneri di urbanizzazione secondaria la parola allora stiamo parlando degli edifici di culto di cui annualmente l'amministrazione riserva nell'ambito delle opere di urbanizzazione secondaria una quota di proventi per gli interventi l'importo dell'anno 2013 ammonta a 100.000 euro complessivi e viene destinato sulla base di accertate necessità agli edifici religiosi che ne fanno specifica richiesta nell'anno 2012 sono pervenute richieste di contributo da 5 confessioni religiose che sono la parrocchia di Erali e parrocchia San Vittore Corona di Montaldo Torinese la parrocchia San Luigi Gonzaga la parrocchia San Giorgio la Santa Famiglia di Nazareth e l'Istituto Salesiano Cristore di fatto in base alle accertate necessità degli interventi proposti si propone il seguente programma di ripartizione per la parrocchia per la parrocchia di Erali 20.000 euro per il restauro del campanile per la parrocchia di San Luigi Gonzaga 15.000 euro per il rifacimento dell'impianto termico per la parrocchia di San Giorgio 15.000 euro per la riqualificazione delle aree espositive e della campana storica per Nazareth la Santa Famiglia di Nazareth 20.000 euro per l'adeguamento igienico funzionale all'oratorio e per l'istituto Salesiano Cristore 30.000 euro per la continuazione delle opere di recupero della chiesa Allora prima di tutto ti ringrazio perché adesso sappiamo che ci sono almeno cinque confessioni religiose a Chieri magari se ogni parrocchia ha la sua confessione religiosa diventiamo veramente molti ecumenici Allora in terza commissione questa cosa ovviamente è passata e già in terza commissione sia io che il collega Fausto avevamo fatto notare che i criteri di assegnazione dovrebbero essere un po' più chiari nel senso che se no come è stato anche detto da Becchis si rischia di dare un po' un contentino a tutti e credo che questa non sia la finalità dello stanziamento di 100.000 euro in un periodo tra l'altro come dire di grande crisi per tutti quanti cioè 100.000 euro devono essere oculatamente spesi e per spendere oculatamente abbiamo già chiesto in terza commissione e lo richiedo qui che siano fissati dei criteri e delle priorità perché se no io posso capire che ci sono delle che come dire ci sono delle delle opere importanti da fare però magari alcune sono più importanti di altre e non sono tutte allo stesso livello e poi dipende dalla confessione religiosa giusto? Volevo farvi presente che è con noi stasera il nuovo presidente del collegio dei revisori la dottoressa Scarcello Mariella che salutiamo cordialmente ci dispiace per questa sera deve tornare anche domani sera perché è così ha chiesto una parola alla collegoria prego nelle varie opere quello che così volevo sottolineare il restauro e dell'area espositiva della campana di San Giorgio che credo sia un'opera che ha un valore diciamo di tipo religioso ma anche un valore artistico e di turismo piuttosto elevato nel senso che si tratta di una campana molto antica che finalmente insomma dovrebbe trovare una sua sede espositiva significativa con questo credo che davvero avere qualche criterio di riferimento sull'urgenza o sulla criticità di un certo tipo di intervento oppure sulla possibilità di utilizzarlo in molti sensi ampi possa essere utile altri interventi dichiarazione di voto prenotarsi per la votazione è aperta la votazione votare chiusa la votazione esito della votazione presenti 24 votanti 24 favorevoli 24 ricordo la seduta è tolta ci vediamo domani sera alle 19.30 buonanotte a tutti